Sì, sì, va bene come vuole ragazzi, sì, facciamo fortuna se poi potrebbero, tanto è sempre stato così. Dai, 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 dai. Va bene. Host, che è? Ok, codi. Ma potete fare anche prima voi l'host e poi l'altra Rebir te lo facciamo noi, almeno così abbiamo fatto l'altra volta. Ok, va bene. Ok, va bene, allora ci cambiamo l'host alla matta, va bene, vai. Dai, dai. Perfetto, vai, in bocca al lupo ragazzi. E nulla, dai, ci sentiamo dopo. Anche a voi, a dopo, gg. Una fortuna. Ok, sta per iniziare signori, viva il torneo, viva tutto. Si parte 130, Martin Garrix si va a fare il torneo. Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. Rimmelaga ma buona. Allora, sartano loro. Buonasera Francesco, buonasera Giovele, buonasera caramacciolo, buonasera a tutti. Andiamo a spaccare la semifinale del torneo con due contro due. Buonasera Lupo, ti saluta Alice la mia ragazza, chiede come stai. Anche su Discord mi hai scritto. Un bacione a tutti e due, ragazzi. Tutto al posto, ciao Alice. Sì, tu hai scritto ovunque a te. Allora, buonasera Alice, buonasera Steve, tutto bene, grazie. Adesso facciamo il torneo due contro due, in bocca al Lupo. Grazie mille, lunga vita al Lupo. Bianco aggiungerei. Buonasera Roberta, spacca tutto. Dagli Michele, buonasera Lorenzo, dai Adriano. Belli gli occhiali Lupo, gli altri gli facevano troppo saldatori di marmite, ma come? No, vabbè, ma questi sono occhiali seri, eh. Questi sono occhiali seri, eh. Mi sono arrivati, ho detto che sarebbero arrivati gli occhiali seri, da Vision Care Studio, che è appunto proprio un negozio di ottiche, eccetera, quindi sono occhiali seri. Poi, se vuoi fare il cretino, ci sono anche il cambio della lente, insomma. C'è il cambio scuro, quello che vuoi tu. Sì? Allora, non lo so, bro, diciamo sì, dovrebbero essere i migliori del torneo. In teoria. E proprio noi li becchiamo. Allora, Lupo, imbocca, ti mi imbocco ovunque. Ciao Lupo, ciao T'Alessia. Ciao Mario. Ciao Lupo, ti saluta mia nonna, chiede cosa è cenato. Nulla, se vuole, mi può venire a cucinare lei, se è tanto gentile. Se le fa piacere. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Qua t'ha già spaccato tutto, t'ha già spaccato, brodi. Sei mio professore universitario, non sei mille, guarda. Non vedo l'ora di andare a insegnare nelle università e nelle scuole. Sei carico? Sei carico? Io? Sì. Of course, bro. Io sono sempre carico, bro. Bro! Oh, che sta succedendo, zi? Io non ci sto capendo niente. Tu pare mio fa... Tu 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 ta ta ta. Non ho la mira, non ho la mira. Non sei un uomo così impegnato. Non avere neanche il tempo di fare un piccolo riscaldamento. Vabbè, si parte a freddo. Vado a freddo, zi, sono a freddo. A freddo, signore. Il lupo ha freddo? Ho freddo, ho una coperta, grazie. Buonasera, Adriano. Gentilmente. Sono qua in rizzo, dico proprio al volo. Pacca tutte cose, rubo. Vediamo, eh. La sfida comunque è lunga. Sono due mappe. Già, fino a un massimo di cinque partite. Devo mettere bello così. Concentrato, che vedo tutto. Buonasera, Andrea. Dov'hai tu, zi? No, tavo, vai, vai. Arrivano winery con noi. Hanno fatto il ping ping. Hanno pingato. No, c'è uno da me, zi, c'è uno da me. Anche da me. Bello start. No, mi ha rubato la kill. Io mi faccio ammazzare. No. Adesso è rinato il progetto. Eh, ma ha confermato. Che falle. Quanto sta... Vabbè, ma c'è uno da kill. Tra l'altro è inculato a me, fra. Oh, no. Sto tornando, eh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Non c'è quanto un altro nemico, che è il tromba terrato, eh. Ah, se l'ha preso lui. Vabbè, me ne vado qua, fra. Me ne vado. Eh, anche io, anche io. Ah, chi cazzo mi ha sparato? Non ci credo, ma aspettavano in tre qua sopra. Un full team. Con le armi. 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 Ti sono in arrivo. La porco zio Non va a terra Siamo pari Andiamo a pialearmi Subito Poi volo Hai visto dietro il sasso Dietro il muro Ah ne sono riuscito a prenderlo io Peccato Intento che sono tanti È sceso uno da te Uno da te Sul lancio è pieno Sul lancio è pieno Andiamo a prenderci la kill bro Ah torre 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 attento No 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 calma 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 Deve non scendere questi No è sempre quello della torre Sì che mi picca Sto stupendo il fuoco nemico Sturbatore radar Nel Stavolta Oh Oh Rotto Me ne vado Impossibile prendere le kill Su di quelli Non ci credo Tutti le vovo fatti Tra terra Vado Sì vado Interessano Quanto ci mettono Arrestare Secondo te Eh li ha arrestati tutti Dai non mi sono preso Una kill Proti No dai è arrivato subito l'altro Guarda sono arrivati gli altri Che culo questo Ma in teoria siamo sopra Non mi ha dato la kill a me Mi dà fastidio che non siamo riusciti a prenderci Ma in teoria a me io dovrebbe dare una kill Perché sono scappati via Non me lo stanno confermando quelli Ma c'è uno la terra mio Me l'ha data Me l'ha data Sono già passati quelli della torre C'è uno sul lancio C'è uno sul lancio Straccato Non ci credo A winery No 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 C'è un po' di dio Venti 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 Ah era sotto al tunnel Vabbè siamo up Sì 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 ma In tranquillità Sto pure Sto pure giocando bloccato Una kill me l'hanno scammata a me Fra Avevo messo one shot Lui ha tirato due colpi Se l'è presa lui Lui ha tirato due colpi se l'è presa lui Quindi bisogna solo scendere a me e ammazzare fra me Eh sì se riesco a rifiare le armi Eh stanno tutti sul mio corpo C'è uno ancora sopra Fuckin' bullshit Orco zio Bella No penso ad altri kill io No c'ho due mitra di rette bravo Non c'è nessuno a me la piastre Adesso si chiude la safe Dobbiamo giocare safe eh Sì c'è ancora vita Sì c'è ancora vita Io adesso vi doverò Eh stanno farmando loro però occhio eh Ho notato E io dovevo piano attimo le piastre Oh 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 cost 2 Ah non c'è credo Gli ha dato una mano con le kill qua Mi stanno andando a prendere le ultime kill mamma da Ok Ho preso un'altra kill Da te Livius Da te Livius Lo pinga là sopra Quanto fa schifo Quanto fa schifo questo MP È a one shot bro Mi sta scappando per tutta la colonna qua No me l'ha preso da coda Va a porto No bro Vabbè ma tanto siamo up Siamo up no? Sì sì abbiamo 20 Abbiamo 20 Eh mica tanto Fra Manca uno Eh occhio occhio Cioè 7000 7000 di danno fra Vabbè ma in teoria non ce la fanno Non ce la fanno No io non c'ho soldi Sì non ce la faccio Ho preso io Godo Ho preso io Abbiamo vinto abbiamo vinto noi la prima Vabbè ma nel cinto Dai Ti sta scomparendo Livius Livius in mezzo alle Chiappe Maglie Bella papi Papi Tu papi Allora La prima è vinta da noi Signori La prima è vinta da noi Buonasera Ciro Buonasera Colberger Buonasera Dumitru Siamo in tornino 2 contro 2 Sì è la semifinale Ed è adesso Questa è la semifinale Bella Paolo Siamo genesimi finale I 3 dell'Ave Maria No mi dissocio Che cazzo ha scritto Marco Salve Jonas Bella Domenico Si è torneo Oh se finisce presso il torneo Te ricordo Devi entrare sia tu Domenico Che Biaggio Dopo vi faccio vedere Un po' le armi Regà Non c'ho ancora Alcuni settaggi in chat Cosa Mi saluto Italian Barbie No dai Che così Non mi concentro più Non mi concentro più Poi Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Ma chi è che ieri Chi è il Barto 900 qualcosa Che ieri Mi ha visto In una live Però era divertente Io vado Alla mi sono fatto le risate 13 kill Vergogna Ti rubi le kill Sto male bro Ti rubi le kill E sono ancora freddo bro E io anche io sono freddo No ma io avevo iniziato Quasi bene Fra mi stavo tirando via Due kill Me l'ha rubato Quello Me l'ha rubato Tortellino amoroso Tortellino amoroso Tutto tuttu Da 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 Poi da là Mi sono iniziato a incazzare Non riuscito più a fare i kill Oh my god Blizzdino bro Mi ha killato Blizzdino Poi Ho killato un in volo Prima E mi fa Non va bianco Se non sparo 20 bombe sto game Lupo Mi devi togliere dalla lista amici Assolutamente Ah sei tu il Bart Guarda che Guarda che io mi diverto Io mi sono fatta le risate lì in live Con la gente che scrive lì quelle cose Io mi diverto Poi quando ha staccato sono andato a vedere Mi skill sincero Sono andato a vedere un po' di code Io c'è ancora Winer Prova a scendere a town Io town? Sì Ti town rizzo tutto Non ci credo Porco 2 No Uccidete tutti No Uccidete tutti i zumbi a town il winery non è nascito da nessuno cambia zona subito zii si si vedi perchè dovete andare a town town c'è gente vuoi venire vieni che io sto un po' nei casini ho trovato una mitraglietta dopo tre anni oh ma lo vuoi confermare a quello no il bombardamento i zumbi bombardamento il ventilatore eh Giancarlo cazzo ho giocato ho giocato l'altro giorno tre giorni settimana scorsa tre giorni ad ora di pranzo con la chat poi di solito la sera gioco qui con chi è abbonato non tutte le sere il mercoledì giovedì eh zii macello no vabbè adesso ho preso una kill due kill due kill la 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 Andi un attimo No vabbè no vabbè No No porco di quel porco Ma che Ma quei cazzotti Sì Ma mi è sceso quei cazzotti da sopra Corriami Dai dai Ah gioco sempre dalle 2 Del 2.30 alle 2 di notte Ah lavoro a pranzo E fatti l'abbonamento Invece di fare l'abbonamento Da quella con le cose da fuori Fare l'abbonamento da l'uomo bianco Dico io A una persona seria Buonasera Alessandro Ah se mentre salivo questo è preso già altre kill Vediamo se non gliene rubo qualcuno Ma questo che culazzi Se sta a trovare tutte le kill facili davanti comunque E i miei crackati Non vanno a terra Assurdo la vita mia guarda E' morto tortellino Qua tortellino amoroso Che mamma che sull'angelo sta facendo un po' di kill Non ci credo Lui è assurdo E' assurdo E' tortellino se piglia le kill Ah vabbè Ma Ma poi lo sparno solo a me Lui non gli sparno Assurdo Lo giochino a me Mamma mia Ma Mamma mia come sta giocando No non ci credo 3 ore per andarla a prendere se l'è preso lui La scivita è morto eh Si deve incazzare No 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 Non ci voglio credere Tre ore che uno gli spara La sfiga Vabbè calma 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 Concentrazione Eh la David Allora l'uomo su una botte si è baggata la gamma No in che senso si è baggata la gamma A me no Io vedo che funziona Si è baggata la gamma sul monitor No va raga A me vai E' quello non gli spara Guarda che gente si becca Ma guarda che kill La gente che non gli spara Automation E' arma guerra Laseratelo Stacchi la gente che non gli spara addosso Sii dove ma Non ci voglio crede Non sto giocando a questa partita Ma non è che c'è l'uomo Calma calma dai dai State un po' più Via tele safe C'è proprio le persone che crossano A gente così No ma lo so lo so Non facendo le rotation sbagliate Fra tutto qua Eh vediamo a me Vediamo Io faccio le rotation Se prendono le kill Per esempio Non c'ho più piastre Un magello Però stanno avendo il mazzo Di andare sempre dove sta gente Si Buono E' andato a prenderci le kill di questi qua Sono cinque Guarda come cazzo sto Chi t'ha fatto? E' sempre un nemico con le Nerglifra Uff Da quello? Ma va a cagare Bene bene Piero mi metto la prima Ma questa Non la sto più fanno Vabbè è sciolto Oio a terra Guarda per me Prima l'angulado Torco Dico non ti rubar più Il mio kill 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 Sentro bro ci sono tre sopra la torre Che cosa hai messo lì fra munizioni Sì Bombardamento fra bombardamento Ah Certo Non so Ah ma ha preso il bomba Zì No Quanto le kill? Eeeh Undici e cinque e tu Stiamo a sedici E loro stanno a di meno Stanno a quattordi In teoria penso che abbiamo vinto di nuovo noi quest Vabbè giocatela fa Portate qualche altra kill a casa Dai Alla Taglie No Oddio che hai fatto? Oddio fra Questa Mi dissocio da questo Bannate tortellino Bannate tortellino No Eh va bene va bene Non mi fa un attimo la foto Alle Alle kill Ma io l'ho fatta in teoria Vamo ganando un milion Eh sì Undici e sette Zii stavamo a diciotto E loro arrivano a quattordici Dai due a zero Palla al centro Signori Palla al centro Io direi È il momento giusto Di buttare stelle Donazioni Tutto Vai per caricarci Vai Vai Vabbè Meno male sta partita Ho iniziato meglio io Fra Ho iniziato a A condizionarli un po' Anche se Anche se Non lo so Né ma loro Fra è assurdo Io ho visto Si sono portati via delle kill Che gente che non gli sparava addosso Fra Poi a me mi sparava mezza lombi Appena uscivo con la testa In tre mi sparavano addosso Boh non lo so C'ho il ping in testa Vado girando su sit lupo bianco in front Non lo so Buonasera Alessandro Dai 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 ragazzi Let's go Andiamo andiamo 2 a 0 Se famo 3 a 0 Vinciamo la prima mappa E dobbiamo andare poi sul revirt A giocare Dai 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 Cosa? No dico se push Se push nelle lobby 3 yard Mi sa che è peggio Cioè le kill arrivano da sole Basta solo posizionarsi bene E hai di prendere posizioni Ma non devi cercare di farti in full team Come normalmente Devi dare una o due kill E poi cambi zona Esatto Non funziona ma Buonasera Patrick Buonasera Patrick Sì hanno nerfato l'NZ Hanno nerfato Un po' il Blixen Hanno nerfato varie cose Hanno potenziato il grau Il killo L'M13 Alcune classic Hanno rinerfato il kill L'hanno n... Ah è vero è vero Hanno fatto un aggiornamento mi pare oggi Dove hanno nerfato di nuovo un po' il kill Vabbè Comunque Hanno potenziato e depotenziato Varie armi Adesso si usa molto l'arma guerra Ancora l'H4 Ho visto usare addirittura qualcuno l'MP7 di Modern Warfare Come... Come mitraglietta Raga Buonasera Franco Eeeh... Io sto usando un po' di tutto Sto usando l'XM4 Come assalto Il grau L'automation Dipende da partita a partita Sono vari quelli che si possono usare Tu lo TS con mitraglietta? Sì sì Oh Mi chiamano una bella... Town Io sto usando town bro Scompare Tu puoi andare a winery eh Tu vai a winery No io vado all'altro lato fra Tu vai a winery Io vado a town Ah ok vado io a winery Vabbè 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 come lei vuole presidente Un president C'è solo un presidente President Allora Tortellino lì Via Allora vengono con me a winery Già lo so mi rubano le kill bro Io mi incazzo poi No No Peccato 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 Ma ho dovuto killa' ma Mi sono dovuto fa' killa' per forza Per portarmi via una kill fra No Eh ehm Non morire bro eh Ma quanto stiamo? No no siamo a 5 kill Oh porco due Sinistra sinistra vai a sinistra qua E vabbè ma i zombie dai Dai lo zombie no però eh Tanta gente a winery Ripeto eh Sì Esatta Che è bel po' di gente Sì Io me ne sono riuscito a tirare solo due Perché stanno troppe persone però Confermi uno arriva l'altro E loro se stanno a fia' le kill? Salii Che stanno a morire la chiesa quelli? La gente sotto sì No no si è bloccato tutto zi È crashato? Non ci credo Quanto stavamo? E mo? Stavamo ad otto E loro sette zi Stavamo un up eh Hai crashato a tutti? Sì Se no si ripiglia Questo game si ripiglia da così Cioè da quello che abbiamo Siamo una sopra Non bisogna chiedere Non bisogna chiedere Secondo me sì si dovrebbe far così Diggelo tu lupo No no che significa non si conta zi Allora se noi stiamo perdendo crash a hobby Non si conta Il crash si riparte dal punteggio in cui si era Eh infatti Eravamo otto a sette Ah ok non si conta la vittoria Ma le kill si Ok eravamo uno sopra A posto a posto No vabbè è normale che non si conta la vittoria Ecco si riprende da quello che stavamo Eh no loro devono andare Cazzo riga è crashata la partita Non ci voglio credere Vabbè siamo comunque otto a sette Eravamo con le kill quella partita la Attenzione che è successo Buonasera Subito con le cinquanta stelle Pronto? Pronto? Siamo una sopra Si ricomincia da questo risultato Vediamo che succede Stiamo due a zero nel frattempo Buonasera Roberto Buonasera Franco Anche Patrick si unisce con le cinquanta stelle Che è bomba Grazie mille per le cinquanta Sì stiamo giocando al torneo Roberto Stiamo già giocando al torneo Siamo Abbiamo vinto due partite Su due Siamo due a zero Questa qua era la terza È crashato Ripartiamo da otto a sette Maurizio Che non diventi un vizio Grazie mille per le cento stelle Maurizio Siamo Ripartiamo Sì Sì Piro Non sono Non sono scarsi No io fra ho visto il bracket Come non dovrebbe valere Cosa scrive mamma Ma che cazzo dici La scelta dallo star non dovrebbe valere Ma in quale regole Prate si Su CMG si riparte da Si riparte No ma è sempre stato così Si riparte dal Dal risultato zio Vabbè ma fa niente Dai come vogliono allora No 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 Oh siamo una sopra Oh da che Wager e Wager in tutti i tornei Se crasha si riprende il risultato in cui eravamo Eravamo una sopra Cioè non scherziamo Un po' bianco Ecco Questa mi ha riconosciuto Ecco qua Eh ho capito Ma io devo fare le kill pre partita Vedete devo prendere la mira Allora arma guerra te la faccio vedere a volo fra Perché non c'ho ancora il comando E questa qua Attenzione perché parte Raffaele 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 Con le mille bombe Con le mille bombe E' imbazzito E' imbazzito Con le mille stelle Buonasera Grazie mille bro Grazie mille per le mille Dai Cosa non si vede Ah porco 2 c'ho il monitor C'ho la cam monitor Eh te lo devo far vedere Eh te lo devo far vedere C'è la webcam C'è ragione Però me l'ho dimenticato Eh te lo devo far vedere dopo sta partita Capito? Ah? Vai ancora a winery Ok ok Eh Mi ero tirato un po' di kill Ma non si va secondo me stavolta Arrivano un sacco di gente a winery Perché l'aereo è proprio passato sopra Eh Chica sai che Ok è sceso un po' di gentile town Stavo per dire che non è sceso nessuna town Wow che Che buttata Ho fatto la buttata No vabbè dai C'è gente a winery Sì 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 ma io sto aspettando l'altra gente Che palle Che palle L'altro dio si è salvato Pure è scappato via Ho tirato via un po' di kill io eh Porco 2 GG a lui Non me l'aspettavo l'uscita e rientrata Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Davide Zuzio Con le 80 Grazie per le 80 sere Davide Andiamo 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 Che siamo cari Quanto stiamo? Ehhh Ehhh Un Cosa cazzo ha fatto che mi sei buttato Con tutto l'elicottero attaccato Porco di porco Oh pareva che mi era attaccato con la fune Non lo so Con il binabil Non lo giuro Ho tirato l'elicottero Mi ha portato dietro di lui Non ci credo E non mi ha fottuto Dai 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 Mò il momento Che quelli non ci stanno Sono morti Sono morti Mò il momento C'è uno sul lancio C'è uno sul lancio Appena preso L'aveva appena preso E' qui sotto E' qui sotto E alle tende pure c'era un team C'è un team alle tende Mi sembra una mano Mi sembra una mano Non ho contato Sono morti Sta prendendo il L'altro è l'altro E' qua davanti a me E' qua davanti a me A terra A terra A posto Tanto non c'è l'auto res Perché l'ho killato già due volte Ah è inutile Tanto non l'ho res Dammi una mano Volevo capire dove erano gli altri Ok dove sono? Non li ho pingati Ah vabbè niente Andiamo qua che c'è un team Eh io così Madonna Vai da un'altra parte Vai da un'altra parte D'altrove ok Dosebbero le viastre Oh Oh Vai dappi a pericolo Oh Mi trovo più nemici Mi trovo più nemici Mi trovo più nemici Con due Non puoi capire che è successo Uno di loro aveva lo scudo Ma cercava pure di stunnare Nel frattempo Inia glippala 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 o.i.i.i.i.i.i.i.i.i . . . Oh Oh No No Eh L'M13 L'M13 è arma guerra Ah L'ho salito tardi peccato Madò Bibru Quanto stiamo? No vabbè siamo sopra Siamo sopra noi Oh fra 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 è deciso Eh Se l'è preso lui No Non ci credo quando Sfiga di merda fra Non so che gli ho confermato Free kill da loro eh Vabbè No L'hanno fatto Sì No Ah Ho fatto una cazzata Sì Ho sparato a quella terra Io ho pure confermato la ghille Sono un cretino Ah No vabbè Io pensavo fosse Pensavo fosse seduto fra No 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 Non mi mori lì No Sono risceso per provare ma sono morto con tonno Stavamo 19 e loro stanno a 17 Stavamo Stavamo Giotto loro Siamo tanti zi la sopra Sì Ho sceso Libia No Eh Vabbè mi faccio fuori Torno 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 Sono andato a provare a farmi le kill perchè l'ha sceso mamma da là Era pieno Sulla torre era pieno Ma dove vai ne riprovi Siamo pari zio 20 e 20 No noi siamo sopra di uno No Infatti continuo Stavamo a 19 Loro stanno a 20 No Ma noi abbiamo la kill di bonus Eh siamo 20 a 20 fra Ah Con la kill di bonus Ah C'è gente da me c'è gente da me Sì mi serve la mano Sto arrivando fra Prima che si viene a più a lui le kill Sì c'è uno qua sopra da me Sto arrivando fra Passo da sopra Passo da sopra Loro c'ho Stavamo a 21 Stavamo a 21 Lo vogliamo Mi ha fatto per best fight No lo so Lasciammi le piastre No Sto cercando di prendere una kill Spet 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 Ah uno ce l'ho io di kill C'è di piastre Eh no Stai azzeccato zi stai azzeccato non gli fa via le kill Hanno restato al carrello con l'altro eh Dovete prendere le piastre No Vai fatto lo fatto Vai No Vai one shot l'altro one shot eh Ah va 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 Se ti pidi un'altra kill siamo sicuri 100 per 100 Stanno arrestando stanno arrestando Sì fra Faccio la Dovremmo aver vinto Dovremmo aver vinto Siamo Siamo a 22 Loro stavano a 21 Di cui abbiamo anche la kill bonus quindi Abbiamo vinto noi Cioè avremmo vinto anche se senza la kill bonus di una Sì ma sto giocando male lupo Loro hanno fatto 21 sì quindi avremmo vinto lo stesso Fortis basta finita 3 a 0 o 3 a 0 o 3 a 0? 3 a 0 frate 3 a 0 abbiamo fatto finita Mo' entriamo uno di noi deve stare Rebert Aspetta che li smuto Fortis a 2 Che è sudata l'ultima partita Mi sentite? Pronto? Dai dai no esci in vita Ah vabbè dai li invito riattenti io dai Probabilmente sono focussati anche loro Ok ok Sempre se li vedo sì Vabbè squadra recente mi invito così Non mi fa invitare perché Non mi fa invitare Non mi fa invitare da squadra recente Se mi inviti li invito io Se mi fai inviti Mo' ti invito Non ti fa invitare manca a te zio Ma com'è possibile scusa? Ma ha messa tutto buggato sto gioco Aspetta Mo' ti invito G G G G G Tornellino lo vedo che l'ho invitato Mo' lui invita lui Mo' invito a te Aspetta che ti vedo G 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 È non ti vedo all'io fra Pfff Ai 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 lufo Aaaaaaaaves sto gioco fra L'hai t'invitato Mi ha invitato al basso e destro Ah è inutile Non ti fa invitare dall'aspetto Ti ho mandato la richiesta d'amicizia Così si sbagga in teoria Ora ti fa invitare Eccomi Vai 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 No no sto parlando su discord Ok 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 perfetto ci siamo a posto Niente niente bella ragazzi Dai E gg anche a voi È sudata Quando perdi una hit Ti vende rosicare Ma quello lì scusa erano tutte e tre insieme Ma che vuole da me Capita Ragazzi c'è verso Ti giuro guarda Vabbè dai dai ragazzi A dopo Allora Vai così Andiamo andiamo Allora Che stavo dicendo Un attimo ragazzi Che ero un attimo impegnato A cambiare Devo fare io lost Aspetta che se è buggato tutto Non mi avviava Ok è andato Bella Giuseppe Mo ti faccio vedere l'arma guerra Bro Ce l'ho qua Niente si deve bugare la webcam Vabbè ogni tanto Ogni tanto si bugga la webcam Mi levo io dalle scatole Così vedi come è settata Bella Giuseppe Ci vuoi vedere il settaggio Grazie Di quale ti serve Questa è l'arma guerra Ciao Mirko Buonasera Questa è l'arma guerra Regà Sì sì siamo in torneo Giuseppe E questa è l'automafio Si gioca Si gioca come se non ci fosse un domani Chiedo scusa se non usai internet Noi vinciamo perché abbiamo il pc e il fov Capito Assolutamente Vedi che Rebirt Ti ricordi l'ultima volta che iniziò malissimo Rebirt La prima persa Poi pareggio 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 Questa mi raccomando Concentrato bro perché Oh sta cazzo di webcam Aspetta un attimo fra Impazzita Oh Cazzo di I mortacci Scrivono Moralmente Sono app di tanto Non ce la faccio più Qualcuno mi comprasse una webcam Porco zio Oh Ma perché prendessi Ste malattie Sta web Sì è assurdo Sentito Mi fai vedere No no che cosa Stavo sistemando la webcam Iniziata a impazzire Fra Facceva Tremava tutta Hanno scritto che moralmente Sono app di tanto Sono app di tanto Io sono moralmente alto di tasso No no Eh sì Lorenzo Abbiamo un tasso alcolico A 3000 Oh dove andiamo Stavo Anzi io provo a fare la mia giocata Ah dalla wishlist Devo rimettere Devo rimettere la webcam Non c'è Ma devo aggiungere la wishlist Io provo a fare la mia giocata Oh se mi tirano giù L'elicottero Se mi tirano giù L'elicottero Le bestie Dimmi che volano Va bene Va bene Va bene Devo 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 incazzarmi Parco 2 Dai ingazzati No non è vero Dai Ti voglio attivo Zio Perone No mi hanno rubato L'elicottero Niente La mia missione è fallita Ma la mia vita è una Ma ho cercato pure di investire Dio santo Che culo Dio santo Dio santo Dimenticate quello che ho detto Dio santo Non mi hanno preso Lì Ok Mi sono preso 3 kill Z Sì Ma proprio easy bro Uè bandana sto Tu come va? Non ci credo frate Mi stanno sillando Troppe kill bro Mattene l'altra parte I rinforzi sono in arrivo Questi si stanno incazzando particolarmente bro No, ho fatto una... Eh, niente, niente, niente Mi sono venuto a prendere in... Più persone con le armi Vabbè, io 5 kill e lo sarto l'ho fatto No, mi dissocio da Pirozzi Non c'è male, abbiamo vinto la prima partita 3-0, bro No, stiamo facendo la seconda Una seconda mappa C'è uno che sta... Parte l'elicottero del merda Si è trattato dentro... No, control, bro, uno Ha lato piccolo Lato piccolo, lato piccolo, sì E uno ha tirato il bomba da... Da tende E' sopra, è sopra, credo Il lato piccolo mio Ah, no E' già... Si è buttato uno, si è buttato uno Lo riesco a prenderlo, Dio, lo riesco a prenderlo A terra uno Le pinga due sopra fra il piano quello lì ammezzato Eh, non lo sapevo che scendeva il zio, a me mi ha pingato sopra Se mi andava male Senti, io c'ho un rimedio Confermato, confermato, confermato Senti, fatti una... Senti, è perché io dopo dalle 9 aiuto È il peggior momento per giocare C'è il mio momento di sterling Aiuto, aiuto Sì, sì, decisamente Allora, lasciami farlo Adesso... Vieni la roba di... Non vabbè, niente, niente Fatte una camomilla? Oh, sono una cosa... Devi stare tranquillo, bro Ma sono tranquillissimo Non è quello di un po' No, vabbè, fracca Ho capito, ti ha fatto esplodere lì, tipo Ma forca, troia Oh, la festa sorda E glielo devo dire Cioè, peraltro, lui non è morto Oh! Eccolo, eccolo No, non c'è credo Quale è il pingista? Ancora lì È lì, è lì Ma no, ma come gioca questo? Ma che... Ma... Ma bannatelo, per breve Eh, vada quello colpo Pincendia Ui, fabbiamo caro Buonasera Buonasera No vabbè, io ho rubato una kill Zia, allucinante Mi avrà... Sai quante bestie mi avrà dato? Gli ho tirato via una kill Era fatta, zio Gli ho messo mezzo colpo dentro Eh, mo mi sta venendo dietro Che mi vuole rubare la kill a me, fra Gli ho messo mezzo ah questo non era qua, ma è andato? la tenda, la tenda, esce, esce amore mio ahhh ma che il campo e campo è orato e campo è orato bello Ventez sotto l'upper ooo 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 zio no vabbè zio sto fa il panico di qua sotto ma 15 bombe a serrù tortellino si è preso una kill che dovevo fare io vabbè ma peccato è il problema che molto cazzo stanno tutti come sono piena che bello questo italiano mi ha detto in teoria se ne è salvato uno qua vabbè torna fra le armi son safe adesso al punto è dove stanno gli amici di quello e il tortellino fra è la mia ombra mi sta venendo dietro guarda guarda fa lo stesso giro mio aprisono zia prisono prisono uno secondo piano credo è un altro quadro oh guarda dov'è guarda dov'è qua dietro è un angolino non ci credo non ci credo che ci 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 fra no c'ho due oh che fai c'è una kill che potevo prendermi fa vabbè sti cazzi sti cazzi arriva arriva uno da sopra ma ce l'han pingata loro cioè grazie mille per questa kill easy attento al bomb ce l'han pingata loro chi l'ha pingato quello lì sopra con un perk forse ma io ho comprato un wav ma hanno fatto verso b o b o b o b dai con d'acono c eh dai ci dobbiamo prendere almeno due kill noi no mi hanno rubato una kill vabbè easy easy fra 18 io ho stato penso questo l'abbiamo vinto noi eh abbastanza io stavo a 18 e stavo ganando un milione tararà più dodici tattelino sei let's go bro vai 1 a 0 palla al centro è un 2v2 a buona sega si salvatore torneo due contro due mi mamma mia quello con l'RPG la ma vado comunque uno di loro ha fatto 15 kill noi abbiamo fatto 18-12 poi l'altro ha fatto 18-12 pronto 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 chi è sono il commissario Zagaria minchia minchia oh sono rimasti sono rimasti a fine partita questi questi qua fra non so non so però non ho detto niente io ho fatto pronto pronto quello ha fatto chi è il commissario Zagaria allora vai 1-0 palla al centro si continua andiamo DG grazie mille Antonino dai 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 portiamola a casa easy dai 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 andiamo in finale le kill le sto facendo poche ma le sto facendo le kill il problema era se non facevo kill brodi almeno qualche kill la sto facendo si si ancora semifinale perché poi la se passiamo la finale penso sia domani no come domani domani non so se ci sono no bro scherzi spero eh si si è scritto il 5 agosto almeno se no dobbiamo chiedere di riviarla dove sei domani sera è venerdì è l'ultimo weekend con i colleghi abbiamo organizzato e sabato ci saresti nel caso? si sabato si e allora gli dico sabato nel caso eh ma porco zio vabbè dai tanto seppure sabato voglio andare a ballare penso finisce per alloita nino flexi è pieno di italiani il sista lobby pieno zeppo è pieno zeppo a forza di insegnarti stai imbarando quanti schiaffi a furia di prendere schiaffi siamo 2 a 0 eh? o 1 a 0? no 1 a 1 avevo fatto una partita su rebert siamo 1 a 0 qua dopo devo chiedere il venerdì si beve l'uvo le basi si beve da no no non ho detto che non si beve il venerdì attenzione ho detto che sabato si fa a ballare beh ma venerdì si va a bere eh ho capito ma al venerdì puoi bere pure più tardi fra che bevi alle 9 il torneo inizia alle 9 in Olanda qui non è come in Ollena in Italia però di eh eh ma venerdì noi iniziamo a bere alle 23 eh qui in Olanda iniziamo a bere alle 5 del pomeriggio ma madonna ecco allora va bene di pomeriggio si mancano due vittorie Steve due vittorie e vinciamo ho preso l'elicottero faccio lo stronzo urr cozzio non sono riuscito a prendere l'elicottero ma va a cagare oh chi è no porca di quella niente zi mamma mia mamma mia eh si si è puntata la lobby intera sul mio elicottero la lobby intera dove sono incastrato dalla porta no Pierubarese cioè ti rendi come da chi lato Pierubarese bro ah beh calma calma ah io ritrovo contro si si vai vai poi c'è un po' di gente a chemical che potrei tirarmi via forse o bio come prima e perdi si beverdi a beverdi lo faccio quando avevi 16 anni io bro mi rendo un'altra cosa ma i mo sono cresciuto dai dai porco oop ho fatto una cazzata ho fatto una cazzata vabbè fine ue lulita c'è Matteo Sanzo c'è lulita dove sono le altre lupacchiotte quelli di quanto non si possono bruciare eh prova chemical se no vieni chemical sono un team di italiani ma secondo me sei posto ok c'è gentile lo so lo so lo so aspettando che pusha non pusha dov'è questo qua sotto si cambia zona non c'è nessuno qua loro si stanno è entrato uno sotto prison ce ne stanno tre ai due quarter dove è morto tortellino no vabbè però uno deve essere confermato sì uno sì e forse un altro no l'altro mi sa che lo resta bravo lupacchiotte ha preso il contotempo questo è via questo ma vaffanculo mi ha mandato a fangulo hanno preso gli schiaffoni sì mamma te è morto di là sì mamma te è tu tarattara quanti erano di qua no ma ha detto guarda sto stronzo mi dissocio mi dissocio mi dissocio guarda qua unicode girl ma chi l'ha con panocchietto sta giocando con panocchietto ma perché mi ha sparato dalle spalle vabbè comunque stavamo stavamo facendo pure questa tagli dietro fra non gli fai fare oppure te ne puoi andare al living c'era gente fra santo scendi 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 oh ma l'ha pingato uno sotto sotto per i solzi e l'altro è da me l'altro è da me dentro la casetta qua gli altri sono anche fuori fuori no sì uno dentro la casetta l'ho chiamato fra uno e qua da me sopra eh sì è piano di sopra dove sono morto io hai presa tu hai presa tu lo prende il lancio molto easy molto easy è arrivato è arrivato anch'io brodi bravo bro no ha pushato uno ha pushato uno laterale no che cazzo ho fatto bombardamento bombardamento via via è laterale ti sale niente deve spararmi l'altro dg ho fatto da contorno io wow te ne è scappato uno sotto living zio a terra ne entra un altro da sotto ma stai zitto che sono appena atterrato ma quale camper ho fatto l'altro dentro la casetta serpentino serpentino è da te chi è chi è control di lato non so dove mi ha sparato forse ho capito scende uno al living torniamo dentro living ci stanno a tirare i termidi ah laterale laterale da stronghold sul muretto che sale eh no pure sopra il tetto si ce n'è uno sul tetto nostro questo 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 no anche da dietro cazzo significa basta potenza faccette senza ripiare senza niente vabbè in teoria stiamo vincendo stiamo vincendo la partita la partita vinta proprio easy bella buonasera si è un torneo fabio un torneo due contro due è un torneo un torneo minchia adesso sono in devasto una bella statica scusami mannaggia discord no 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 oh mio dio c'è c'è ovunque dentro il muro lì ci stanno sparato ovunque non trovo il mio cazzo non male c'è un al muretto bro questo 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 se vedrà mano se vedrà mano te lascio divorzio barca tra e non so riuscire a prendere la mitra bomba vabbè abbiamo vinto comunque qualsiasi cosa succede abbiamo vinto c'è panocchietto nella casa qua niente è stato arato porco due che palle ma questo abbiamo vinto calmo se mi killano è finita solo che vorrei resistere c'è uno sul muretto qua io ti dicevo c'era uno sul muretto lì guarda lo sto mirando io eh non lo so ma non era lui che mi sparava quelli lì nella casa di dispiante sparavano eh lo so non so sto giocando tutto male percozio ma sì lupo muore vabbè dai voglio provarla no stronzo no no me l'hanno rubata è una vergogna è una vergogna da mezz'ora che mi rubano le kill pensa assist stanno in tre qua dentro fra c'è tre team tra l'altro ma chi ha restato ti comieni ad andare subito in safe a sto punto giocate le siringhe giocate le siringhe non ce le ho che me gioco sì che ce le hai non ce l'ho le siringhe non ce l'ho le siringhe no allora a me si era buggato a me si poteva la sicurità vabbè mi sono preso una ghinlin views sì bravo bravo vai 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 bru vai 2 a 0 vai ok stiamo facendo una foto chi è rimasto qua questo pure 9 peccato let's go 2 a 0 signori palla palla al centro dai 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 mancherebbe l'ultima l'ultima mancherebbe l'ultima partita che se vinciamo sì sì dobbiamo farlo un'altra su rebord scusa best of no allora praticamente si chiama best of 5 però ovviamente se tu arrivi a 3 prima che arrivi a 3 vince potrebbe capitare la situazione in cui fai 2 a 2 quindi fai 4 partite la quinta ovviamente perciò fai best of 5 perché se fai pareggio 2 a 2 arrivi a fare poi 3 a 2 sono 5 partite però se fai 3 a 0 è finita anche se loro fanno 2 vittorie è persa sì sì ho sbagliato allora ci manca l'ultima win bro l'ultima 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 wings e niente si è buggato si non cerca aspetta 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 si è buggato e no sarà best of 3 a quest'ora avevamo già vinto noi la cosa capito perché quello fai fai il massimo 3 partite best of 3 ho sbagliato io domenze ho detto io prima perché che gli avevi detto stiamo con i like signori dai dai ultima partita signori ultima partita stiamo con le stelle con le condivisioni con i like con le sub ultima partita se vinciamo andiamo in finale signori se vinciamo andiamo in finale pronto? 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 c'è Livius pronto? andiamo andiamo è un mio amico Huracan è un mio follower Huracan lui mi invita a prescindere per le private capito? ma va bene metti caso che io voglio mi sento a rigiocarle di base e posso entrare da lui lui mi invita solo per le private così se mi invita so che c'è una migliorata possiamo entrare per la sensazione solo le marce mi va bene mi va benissimo che mi invita se non mi invita un problema e se non mi invita c'è mio nonno sto un attimo con la puzzona oh raga eh eh tipo io io ne avrò come fate cinque no questa è la prima una per ogni game wow no è la prima fra volevo essere più concentrato possibile ogni game eh che fai minchia 40 game ti sprechi due pacchetti eh zio si che fai ogni game e la centina sei impazzito fra che nervosismo ti porta sto gioco oh grande Piero grande grazie mille Piero per le cento ah raga controllate perché mi han detto Gioele non so di tu il modellatore modellatore Gioele dallo staff alcuni hanno dato ad alcuni le stelle gradi se ho sbaglio di nuovo da poter donare al momento fra si ammessi che abbiamo vinto la prima mappa abbiamo vinto la prima mappa e adesso su questa siamo 2 a 0 se vinciamo anche questa abbiamo vinto andiamo in finale vai vai bella Roberto buonasera ah guarda dove gira non so dove andare fra penso sotto prison mi sa che prendo il biscotto però c'è già gente dietro ho preso l'arma fatto viene a kill ah gli altri sono scesi sopra sono scesi non so non so ci vediamo c'è l'anima E deve sparare sul cadavere Guarda, guarda il tossico Ma no, perché ho killato te, Margherita Non ci credo No, sorry, sorry Siamo in torneo, purtroppo Devo fare più kill possibili Siamo in torneo Com'è la situazione? Ah, io sto bruciando Ci bruciando tutti Sul tetto che oggi entra Non so se è rimasto No, vabbè Buonasera, Luca Ha tirato un grappolo da sotto Guarda Mamma mia, mi voleva rubare la kill Quello lì No, rovere L'ho già controllato in un'altra game C'è più nessuno qua C'è più nessuno qua Ciao a tutti Qu'è nessuno qua Cosa si dovrà? Qua DG? Ah ho preso troppo lungo il lancio Oh perchè ha abbandonato? Perchè non di loro ha abbandonato zi? Boh Si è staccata la connessione ha detto Ah E quindi? Eh chiudiamo 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 Eh noi stavamo 3-8 Lui quanto stavamo? Eh non mi ricordo io Fermo un attimo Esci 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 Esco Ehm Ah HIT continuate Vabbè I restart Cioè il crash si ha detto si restarta solo inizio game Ha detto Ah ma ho fatto l'ultimo di qua Ah ma ho fatto l'ultimo di qua Quanti ce ne sono a nuova Prato Ortevino se ne sta a prendere un sacco E' pieno zeppo E' pieno zeppo Ah Non c'ho più munizioni Dobbiamo arrivare alla zona sicura subito Uh Un ha sparato da headquarter Mi sa Ah ma li sono presi io fra Eh vabbè vabbè ma che schifo Ha detto vado che schifo Oh In prison c'era un team Eh ho visto eh Uh Guarda questo ah Oh due qua sotto più uno in cucina Merda zi Stai restando un po' eh Vabbè 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 Grappa grappa Eh lo so che sta restando ma No lo resta di nuovo? Palle èse Purtro Him E' tornato pure il quarto me the Purtro Quanto sto Eh, porca dio. No, mi dissocio. Oh, stragazzata, son morto. Non so, sono 53 ore. Ce l'hanno, ce l'hanno con l'orto mio, ce l'hanno. Vabbè, in teoria dovrebbe essere vinta anche questa, rega. Dovremmo essere in semifinale. Cazzo, fai quei bastoni, cosa? Dovremmo essere in semifinale. Eh, a voia. Cioè, in finale, scusate. Ma, c'è un ultimo sopra prison. Un altro, lupo, lupo, lupo. Mi hanno sonnato, zi. Qua, qua. È entrato? Dove è andato? Non lo vedo più. Mi ha buttato uno col paracadute. Eh, l'ho messo a terra, ma ha manchinato quello da prison. Sì, sta, zizzo. Penso che abbiamo vinto questa. L'unica partita decente, questa. Di tutte le partite, delle sei partite, questa è stata l'unica partita quasi decente. Ah, ha fingato sul lancio. C'è stato sul lancio. Dai, dai, dai. Metti la mitraglietta. Bella. GG, fra. GG. Abbiamo vinto. Penso. Non so quanto stava là. Beh, ma stavamo... Noi ci avevamo 28 kg. Non penso che loro non abbiano 28. Allora, in teoria penso che abbiamo vinto noi, in teoria. Max, felicità, sei tu. Potrei essere io, sì. Sì, sostituisco l'uomo bianco. Quando sono bello. Prondo? 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 È molto brello. Eeeh... Quindi come facciamo a sapere... L'ultimo quando stava? Oh, Davide Zuzio, subito, con le tre... Eh, 300, scusa. Vabbè. Con le 230! Grazie mille. 230. 230, bro. Grazie mille per le 230 stelle. Lingro, lupo e Livius. Domani sera finale. Eh, bro. Aspetta, perché ha scritto... Aspetta, fammi smutare Tortellino. Bella, Tortellino. Si può spostare a sabato. Eh, ma abbiamo... Abbiamo un big problem. Se no, non si può fare alle 8. O alle 7, proprio. Le 7, zio, sarebbe... Ah, ma gli scritto mai Livius non è a casa. Alle 21... Possiamo anticipare alle... Oppure o spostare a sabato, zio. Meglio sabato. Eh. Allora, ma gli dico, possiamo spostare sabato? A sabato, sì. Vediamo cosa si dice. Ok, io ho scritto. Tortellino, ci sei? Ma ancora è mutato? Ma l'avevo smutato, Fra? Ma l'avevo smutato a Tortellino. Non si è smutato. Oh, non si smuta più Tortellino. Non mi smuta più Tortellino, sto gioco del cavolo. Vabbè. Fra, come lo smuto? Non lo posso smutare, non me lo smuta più. Tortellino? Tortellino, lo smuti tu? Bravo, bravo, bravo. Bel clutch alla fine. Glielo dici, glielo dici. Eh, fagli i complimenti anche da parte mia. Glielo dici che non lo riesco a smutare. Il gruppo ti manda i complimenti ma non ti riesce a smutare. Vabbè, signore, adesso vi faccio vedere la lente. È possibile... Eh... Perché non... Signori, come ho montato la lente scura, signori. Saba, se vuoi farla invece che domani? Mamma mia. Martingaricetto 3, tassi vola! Signori, vi consiglio tutti, a tutti gli occhiali per il monitor di Vision Care Studio. L'hanno mandati oggi. Sono arrivati. Chi sono i ragazzi che dobbiamo contattare? Eh, non lo so. Aspetta un secondo, lupo. Sì, sì, sì. No, su Telegram. Ha detto anche Blitz, dopo vi scrivo. Allora, vi levo un attimo la monitor cam, che tanto è finita. Sì, sì, sì. Penso stia streamando sull'altra piattaforma. Wow, farà l'handscure per gli after, signori. Questa, capito? Se stai fuori con gli occhiali normali, poi a un certo punto arriva il momento di ignorare. Al massimo... Metti questi così, guarda, guarda. Non ti fa nulla. Si appoggiano sopra, sono magnetici. Eh, vai, vai. Oh, lupo, aspetta un secondo, bro. Sì, sì, mi muto. Cioè, sono fantastici. Cioè, tu, quando stai bene... Pah, fai così. Fai così. Poi, quando stai male... È qualcosa di... Di geniale. Secondo me è qualcosa di geniale. Poi ci stanno pure gli occhiali come ce l'avevo prima. Lente arancione, se volete. Se no, ci stanno questi scuri. Come andare in after in pochi secoli. Sì, quando sto male... Metto queste. Appoggio subito la lente scura e via. No, è geniale sta... Rega, veramente è geniale. Questa invenzione che hanno fatto. Tu non devi fare nulla. Non devi manco cambiare occhiali, capito? C'è il ricambio. Poi lo appoggi sopra, si attaccano magnetici e via. Può darsi che hanno problemi i server. Io li romperei in un giorno, nemmeno. Ma lei è proprio... Ma che coniglietto è lei? Mi scusi. Ma lei è... Un coniglietto combina... Vai. Allora... Aia. Poi sono leggerissimi questi qua. Mamma mia. Comodissimi, leggeri. Non li senti neanche. Su l'ultimo modello di Tony Stark. Chi è che ha scritto il fatto dell'Imbot? Che ha detto che è successo? Sì, ma io non posso non sentire Tortellino. Non è possibile. Prova a fare F9, poi ancora F9. No, ma l'ho mutato io a lui. Che faccio a fare F9? Clicco su attiva e disattiva audio. Non me lo attiva. Eh, non ho detto che non ti riesci a smutare. Ma che mamma mia farà pieno di bug sto gioco, guarda. Vabbè, detto ciò, io ne approfitto che c'è stato Domenico... C'è Domenico. Domenico ci sei? Che abbiamo finito il torneo. Possiamo farci le partite che dovevamo fare ieri? Che adesso sono libero. Che... Ieri ho giocato con due o tre sostenitori, però mancavi tu. Che non siamo riusciti. Vieni, 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 fra. Che adesso abbiamo finito il torneo, quindi tutto a posto. Abbiamo finito prima dell'altra volta, va addirittura. C'è anche il gazzo di ferro, con l'invito che doveva giocare anche lui, che anche lui è... Eh, niente, è Browdy. Datevi un secondo, rega, che vengono Domenico, eccetera, e andiamo. Che ha detto Tortellino? Eh, sta parlando per domani, ma non ti sento, ovviamente, quindi... E che c'entra? Ha detto Violet? Che dopo ci scrive. I raggi X, puoi vedere sotto i vestiti? Adesso ve lo mostro. Un ragazzo ha detto che non c'è, eh? Ma chi, sabato? Eh, se non anticipiamo, fra, vedi se riesci ad anticipare. Guardate, poi c'ho anche la lente, vedi, arancione. Eccola qua. Mamma mia, fra. Bellissimo. Allora, come ti... Come ti chiamiamo? Madonna, non vedo... Oh, non vedo nulla sul monitor, così, arancione. Vedo stranissimo. Oh, mio Dio. Com'è che ti chiamavi che mi sono dimenticato, Domenico? Comunque, con questo vedo proprio sotto i vestiti di tutti, con sto occhiale così, eh. Bellissimo. Buonasera, Giuseppe. E... Dimmi solamente come ti chiami, Domenico. Sì, è finito adesso. Abbiamo vinto, siamo in finale, però abbiamo un problema. La finale è domani. Però c'è sta Livius che non può, domani non c'è. Ah, se ne... No, no, ma non riavvia il gioco. Non puoi entrare da me perché c'ho solo su invito, non c'ho pubblico. Non riavvia, fermo, fermo, non riavvia nulla. Ricordami com'è il tuo ID. Perché io non me lo ricordo. Ti do invita per forza io. Non puoi entrare perché c'ho solo su invito. Dai, ziii. Come ho domani? Ma non potete andare sabato con i colleghi? Eh... Non lo so, mi deve dire Domenico. Ah, DLC si chiamava. Ma mica è riavviato, sei ancora in... Sei ancora qui dentro. A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O. Devo fare una roba, aspetta. Devo tipo... Mandare la richiesta. Grazie, Staz, anche tu sei bellissimo. Que, Z. Mi sono emozionato nell'incontro. Otto mi sa che è quello di Raven, vero? Poi io lo aggiungo. Fammi le pasta ucchiali. Ah, Miti dice server in manutenzione. Un desclamativo di HL. No, regà, dicono che ci stanno forse i server in manutenzione. Porco cane. Assurdo. Quindi praticamente chiunque adesso esce o vuole entrare non... Ah, ecco perché quindi non mi fa neanche smutare tortellino. Fra, perché è stato talmente buggato che ci stanno i server in manutenzione che non mi fa fare le azioni. Eh, vedi, mi fa accettazione di richiesta amico fallita. No, regà. Eh... Ah, Dadax, tu? Eh, ma pure se... Mo non ti fa aggiungere, fra. Stanno i server in manutenzione. Sì, sì, abbiamo vinto. Siamo in finale. In teoria dovremo giocare domani nella finale ma dobbiamo vedere un attimino perché domani non c'è l'Ius. Quindi o l'anticipiamo o dobbiamo spostarla a sabato. Buonasera, Luca. Non ti fa entrare nel gioco, beh? Io ti ho detto non riavviare. Eh... GG ad Activision che è alle 11 di sera. Sì, ti ho invitato, fra. Perché dovevamo giocare ieri ma ieri ero un attimo impegnato. quindi... Recuperiamo oggi la giornata sostenitore. Però ho provato l'Owen troppo forte. Ah, lo so. Io lo sto usando ancora l'Owen. È mello forte. Anche quello da terra è devastante. Signor Gazzo di Ferro l'ho invitata. A me sapete se riesce ad entrare. È un attimo sto invitando il Gazzo di Ferro. Io ti consiglio Grau e Owen XM4 e Owen eh... Automatio e Arma Guerra sto usando queste qua. Dai, a volo, a volo già l'uno con bell'età quella. Dai, dai, che dobbiamo startare. Se no non riesci più ad entrare. Poi, buonasera, Filippo. Niente. Dai, e se ci sono domani facciamo torno domani, domenico, dai. No! Paco 2! Pum, pum, pum. Va bene, dai, al massimo. Poi... Esploso tutto, zio. Adesso vedo. Adesso vedo. Ma quanto... Mamma mia, quanto sono bello con gli occhiali. Allora, signora, abbiamo un problema. Grande, grande, brodi. Complimenti e grazie. A me mi ha buttato fuori dal gioco. Ma tu sei ancora dentro? Ha salto a forte l'XM4 su... su Redbird. L'ho usato ora nel torneo fra a scioglieva. Eh, no, non è... Le... Le... Sì, anche a me. Sì, ho... Aù. Anche a me, anche a me, bro. Ma, bro, mi senti? Sì, 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 ho visto. Ma sono... Non li ho mai fai tardi. Sì, sì, sì. Aspetta un attimo, provare ad entrare, vediamo che mi dice. E lui non mi sente. Eh, uh, mi senti? Niente. Lui parla, non mi sente. Ah, raga, è assurdo, è assurdo. Guardate, è assurdo. Dai, ti lascio che c'è l'ubo che mi continua a parlarmi sempre e non ti sento. Dicevo, a te sei ancora nel gioco. Sì, sì. E ha buttato fuori, dicono. Io sono i server olandesi, bro. Ah, è vero, fra, in Europa c'è un problema, fra. Allora, c'è stanno i server in manutenzione. Vediamo se mi trova la parte. Ci vuole un bombolo. Aspetta, sto provando a rientrare io. Vediamo, vediamo che mi diceva. Sì, sì, siamo in finale. Siamo in finale, però dobbiamo capire un attimo. Cota del server. I server sono temporaneamente in manutenzione. Si è iniziato in una lista. Verrei aggiunto a breve una partita. Maggiori informazioni su htpsupportactivision.com Impossibile che un'altra sia andata a sentire. Secondo me sono caduti i server. È caduto tutto. Ragazzi, hanno accaduto Activision. E vai, si streama Airstone. Si streama Airstone. No, come lo streama Airstone? Cazzo, streamo io. Eh, porto i camion, se no. O mi metto a fare un buon po' di... Andiamo a giocare a... Ad Apex, lupo. Non c'ho Apex sul PC. C'ho Fortnite. Ma andiamo a giocare a Fortnite. Andiamo a Fortnite. Eh, lo so, ma dai, non va a ni server. Dai, andiamo a Fortnite. Invitami. Andiamo a Fortnite, dai. Andiamo a Fortnite. Niente, signori. Ma magari è una roba da poco, eh. Vediamo se no. Non lo so, vabbè. Mi ha aggiornato il suo voo in chat. Forse la volta è un blocco che esplodo. Vabbè, mi ha aggiornato il chat. Bella, mamt. GG, mamma. Ho fatto i complimenti anche a Tortellini. Vabbè, apro Fortnite, dai. Siete, siete... Facciamo qualcosa. Nulla da dire. Assolutamente non la da dire. Eh, Eurotrack. Dai, vabbè, c'è il Libus. Mi ha detto, vieni su... Eh, ma noi eravamo pronti... No. Noi eravamo pronti a uscire, eh. A rifarla. Con l'ultima, bro. Se ce lo diceva Tortellini, noi eravamo pronti a uscire. Poi, non lo so, ci hanno detto che... Blaise ha detto che no, che solo all'inizio... C'è che succede all'inizio, ma era già partita in oltrata, ha detto no. Aspetta che c'è un problema, anzi, non mi ricordo più la password. Aspettate un attimo. La finale è domani, Piro, ma io non ci sono domani. La fai tu al posto mio? Piro! No, che con Piro si perde. Il lupo non dice niente. Bravo, ecco. Stavo per dire, il lupo non prende le... No, 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 no. Dammi un secondo. Sto cercando un attimo di capire qual è la password. Non mi ricordo la password per entrare di là. Io cosa che volevo fare? Raga, mi scrivete in chat se i server torna su, così ritorno su. Ah, pure il codice di sicurezza, madonna mia. Dove me l'ha mandato? Dove me l'ha mandato, ma... A mezz'econdo che... Ma te la scusa, Battle.net? Battle.net... Non mi riconosce con gli occhiali? Non mi riconosce, madonna. Il telefono non mi riconosce con gli occhiali. Se la vinciamo io, la v... Se vi gioco io, la vinciamo. Ieri non ha fatto una kill più di me, lupo. O vuole giocarla lui la finale? Madonna mia, è un botto, è un botto. Sto entrando, eh. Su code o su fort? Mi sa che stanno sistemando anche gli errori che non hanno... Che non fanno più entrare nei profili. Eh, ma mo' lo devono fare. Sì, server in manutenzione, raga. Eh, mi ha aggiornato quando... Io sono entrato, problema che... A posto, a posto, a posto. No, aspetta, mandami la richiesta prima, lupo. Se no, un casino. Eh, ma spesso entrando in game, io. Quello tu rubi kill. Allora, il teorema sta caricando. Come si fa non... Raga, stiamo andando su Fortnite, frattempo. No, alla fine... Lupo, vuoi ripetere velocemente oca, gatto, nel letto? Me lo ha fatto mio figlio e sono morto ridere a crepapelle. Lupo, vuoi ripetere velocemente oca, gatto, nel letto? No, oca, cazzo. Vaffabagno, guarda, vaffabagno. Eccomi, ci sono. Guarda, vergognati, vergognati. Velocemente... Vuoi ripetere velocemente oca, gatto, nel letto? Oca, gatto, nel letto. Capito? Come ti chiami su... Grazie per le 175 stelle. Infatti per quello che stiamo... Stiamo temporaneamente... Caradam! Allora, qua... Come ti chiami su Epic Game, mannaggia? Ma chiamo sempre Lupo Bianco! Allora, mi chiamo... Ma di B alla fine, eh? No, allora, in realtà mi chiamo FB maiuscolo puntino lupo bianco di V. Prova in cerchio di group. No, no, non voglio vedere queste cose qua. Abbiamo vinto, Ale, siamo in finale. Siamo in finale, è il problema. No, domani non so se ci sono... Oh, lui, non sono più FB, bro. Oh, lui, che mi è arrivato? L'invito, il mio... No, come si fa a vedere? Come ti chiami qua sopra? It's Livius, bro. Perché non mi è arrivato niente? No, non mi è arrivato. No, come ti vuoi dire? Scusa, ti aggiungo io, fammo prima. Come ti chiami? It's Livius. Ma io te l'ho mandata, bro. Forse ti l'hai mandata a quello sbagliato. No, no, FB lupo bianco. Ce n'era solo uno di FB lupo bianco di V. No, non mi è arrivato niente. No, cazzo, vedono gli amici. C'è la richiesta d'amicizia. Analcolico. Analcolico. Oh, non ci sei. Ah, l'ho trovato ora. Fermo, fermo. Di che senso vincere a tavolino? Abbiamo giocato, abbiamo giocato. Vai, invitami. Penso... Invita, vai, invitato. Eh, che bello. No, Raffaele impazzito. Vai. Zero costruzione, bro. Te lo dico, eh. Non ci so giocare a costruzione. Guarda la come traiarda. Guarda, 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 c'è la skin. Bella comprata. Lui, io c'ho... La fra la gatorco. Io giocavo sulla PS5 anni fa, bro. Mavergone. Io ero uno dei primi player di Fortnite. Laura era apposta alla... Chi è Laura? Comunque, bro, Raffaele, grazie mille per le 500 stelle, bro. In teoria sto cercando, eh. Niente, raga, visto che i server diattivi sono morti, sperando che si riprendano presto, ci facciamo qualche partita a forte sghi. Bella, Ciccio, grazie per il follo, caro. Uè, Ciccio Graziani, benvenuto, bro. Oddio, è partita la musica a palla, zio. Andiamo se mi ricorda. No, perché ti sento doppio? Per disattivare Milano. Come ti disattiva? Disattiva Milano tu sul gioco, come si disattiva qua? Pur io vado a scarti. Non lo so, pur io sono andato a scarti. Ma tanto, fra... Eh. Non lo so, zzi. Anche Farno c'è problema. Bro, ti sento doppio. Mutami, frate. Come ti muto? Fai start, vai sul mio nome. Vai, fatto, 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 fatto. Eccomi. Allora, però andò. Io non mi ricordo più come si gioca. Come colbro. Insomma. Ah, pinga tu, pinga. Già, già, Luca. Io ho l'alberello. Alta F4 e si risolve. È proprio un pezzo di merda. Lì, mi scopo. Oh, è che è il ventilatore. Adriano, abbiamo finito il torneo e sono crashati i server. Ma, 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 ma. Sì, mi lagga. Senti, sta nagherando internet di tutto il mondo, forse. Sudiamo sette camicie per ricostruire i pinnacoli pendenti. Rinfrescatevi al Summer Beach Party senza stress offerto da assicurazione. Ma non lo voglio sentire questo che parla. Ma che me ne frega a me. Niente. No, ma che, ma mi sa che anche i server di Fortnite hanno problemi, però, eh. Eh, allora sta nagherando tutto il mondo. Beh, che caccia hai pingato qua, Fra? È il mio alberello, guardalo. Ma vai a cagare tu il tuo alberello, va. C'è gente sotto di noi, eh, te lo voglio dire. Una c'è a terra, sì, ma chi sono? Sono un per... Mamma mia, zi. Mamma mia. Ma sono i miei frutti? Eh, i frutti... Le pesche, eh. Ho mangiato io le pesche. Sì, oh, mi sono fatto già due kill, mi sono tirato via. Ma il poli si spara. Sì. Ho gli frutti, bro. No, la sense è troppo... Troppo alta. No, ma quasi gioca a sense più bassa. Quest'azioni... Mew. Incredibile. Ma sono botto questi. Oh. Non me ne frega, farei end. Sono sempre due kill. Come non frega a me. Sono sempre due kill. No, non lo so. Ahia. Oh, c'è gente. Ah. Ah. Dammi la mano. Ah, ma ce ne fa forza, là. Arrivo. Oh, a terra, zio. Ho salvato, amico. Ma che mi hai salvato? Guarda, guarda. Ma lo porto anche sulle spalle. Guarda, lo porto. Guarda, guarda, guarda. Dai, buttalo giù che devo lutarlo. Dai, 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 dai. Che mi diverto a portarlo in giro. È divertente. Eh, poveretto. Che hai sparato lì sopra. Sei impazzito. Non lo so, frate. Pensavo fosse... Oh, boom. Ah, fango. Cento passi, in teoria. Ehm, come si sale qua? Guarda che sta facendo, guarda. Guarda che sta facendo. No, è semplicemente i server di cotto non stanno funzionando adesso. Pezzo di fango. Come si troppano le armi? Eh, muovo sabbia, troppo. Non mi ricordo. Ok, hai trovato, hai trovato. Non mi ricordo, frano. Gioco da un po'. No, tranquillo, tranquillo. Ok, ok, raga. Ora ci sono, ora ci sono. Dai, dai, dai. Eh, raga, è crashato God al momento. Non vanno in server. Non lo so. Spero che lo riprendano presto. Giusto il momento in cui abbiamo finito di fare il torneo e è crashato tutto. Meno male. Minchia, proprio in tempo, in tempo, raga. Meno male. Meno male, sì. Appena vinto il torneo, boom, è crashato God. Sembra fatto apposta. Ehm, quando God non va, c'è sta Fortnite, signori. GG. Sì, sì, a tutti, raga, a tutti. Oh, ma io c'ho le Red Bull, zio. Allora, vuoi una Red Bull? Mettila, mettila. Vai, dai. Uh. 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 Sì, sei lui. Oh, non è lui. Ma mi passa? Scia la miseria. Oh, sento un rinoceronte? Eh, tanti auguri. Oh, porca troia. Io mai voglio il lupo. E qua il rinoceronte. Amore mio. C'ho trovato una costagna. È amore a prima vista. Guarda, guarda, guarda. Sali. Piccolino. Cos'è sta roba? No, lo so. Io adesso c'ho un amico per la buccia. Cos'è sta roba, zi? Ho trovato una banana? Au. Mi fa salire. Per i detisti, come si pinga? No, che ho fatto? Che ho spruzzato? Ah, è qua. Ho trovato questo. Non lo so, zi. Andiamo, 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 andiamo. Eh, dovevo andare. Eh, sì. Quando ripartirà? Non lo so, ragazzi. Spero il prima possibile. Dipende poi se a quest'ora ci stanno già i tecnici che ci lavorano immediatamente. Sì, sì, sì. Sì, sì, ci sono, ci sono. In teoria ci sono. Mi dicono dalla regia. Ci sono i tecnici che stanno già lavorando a questo problema. Qui abbiamo direttamente di contatto. Ho trovato un cassone, quello dorato, iperfalore, quello fortissimo. Vai, vai, vai. Penna riprende. Cos'è? Ci andiamo. Paracadute. Cos'è? Facciamo un abbraccio con... Ma povero cinghialotto, Fra, ma qui è così carino. Perché io dovevo fare l'abbraccio? Ma dove sei, lupo? Ma sono andato a luttare. Andare alle cozze. Ma vado a prendere le cose. Devo luttare io. Bene, ho trovato le bende. Ho trovato mio nonno. Allora, ho preso un assalto. In realtà... Questo non so che se serve. Vabbè, io lo butto. Ah. Ah. Inaspettato. Devo dire la verità. Inaspettato. Non sapevo che costruisse questa barricata qua sopra. Giuro. Cos'è sta roba? Eh, l'ho costruita io per sbaglio. Era una bomboletta. Eh, questa ci serviva, gacchio, però fra... Eh, vabbè, non lo sapevo. Mi sono la piroteca di cara, ragazzi. Questa pure la voglio provare. No, come si pinga. Eh, si pinga col tasso sinistro, non con quello che si è abituato su COD. Guarda qua quanto... Aspetta che so... Io voglio sparare i fuochi d'artificio, zio. Ok. Ma poi come si scende? Come si scende? Va bene, basta, ho finito. Io ti rubo il cinghiale. No, 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 è mio. Non lo puoi rubare, mi sa. Senti, la safe dove va? In teoria si possono prendere le taglie, eh. Oh, porco due! Ah, in moscada! Ok. Ah! 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 Cristo Dio. Vuoi farmi rire? È fortissimo, sono fortissimi, bro. Eh, lo so, ho visto, sono forti manciolto. 29, 30, 1, 1 quasi fa. Come ci si abbassa? Con l'analogico. Mi sto curando. 44, 44. Ma dov'è? Ah, l'ho visto, saltella. Come cazzo ci si abbassa? Con l'analogico! Non è vero che ci si abbassa con l'analogico. Con l'analogico destro, ziii. Li push, li push, li push. Sei imbazzito? Li push, li push, li push, li push. No, no! Ah! Non c'ho gli scudi, madonna di Dio. Meno 33? Copri il cavolo! Oddio, sopra, sopra! Ah! 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 Ma, 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 madonna di Dio! Aiuto! No, 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 salta! Fa qualcosa, madonna! Oddio, non me l'ho notato uno! Resiste, resisti, che mi sto mettendo... Mi sto mettendo lo scudo, io! Passi fuori, mo' mi entra, mi sa! Come cazzo, dove sei? Dai, sopra, qua, frate! Vai, sali, sali! Dove, dove, vai? Ah, porco zio! No, lupo! Oh, non c'ho capito niente io, non c'ho capito... Vabbè, la prima è per i polli, dai. E vabbè, mi devo riscaldare, non mi ricordo. Dai, ora ci siamo, abbiamo capito come sono tutti i comandi, adesso possiamo imparare a guardare. Oh, uno l'avevo messo in terra, frate, ero fortissimo. Eh, vabbè, io ero rimasto senza niente, ero rimasto. Ah, ma era un altro team? Ah, non lo so. No, non credo. Boh. No, no, è quello lì, è quello là di quel team. Cioè, zio, comunque non ci credo a fare... No, vedi che l'ha arrestato, penso che l'hai confermato il suo, eh? Cazzo, io l'ho confermato, sì. Mannaggia, la pazzia. Non c'ho capito nulla. Comunque, bisogna avere un pompa, una mitraglietta e il fucile da quello pull-up, quello che spara. Blup, blup, blup. Capito? Ah, mi dicono che neanche gli altri Call of Duty, fra, vanno i server. Eh, per questo che noi siamo su 4, bro. È crashato pure l'altro Call of Duty, mi stanno mandando poi i messaggi. No way, bro. Una serie a rumo, ma Warzone sta avendo problemi. Sì, non è solo Warzone, sono proprio tutti i server di Call of Duty. E hanno mandato un messaggio, ci stanno altri miei amici che giocano ad un altro Call of Duty e neanche quelli vanno. Quindi, vi sta pushando power. Come vi sta pushando power? Era power? Era power. Ma davvero era power, bro? Aspetta, spero che sia... No, è impossibile. Aspetta, vado a vedere. No, vabbè, vabbè. Power no, raga. No, però aspetta, vado a vedere. Ma va... No, ma va, ma su Apex. No, ma sta giocando Apex. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Mi ha ucciso mia figlia di 10 anni? No, se stai scherzando. Va cacca, dai. Dai, va, si stanno trollando. Eh, sì, vai, vai. Oh, come si mette la minimappa? Pinnacoli, pinnacoli. Ma io tenevo un albero, in teoria, un tempo. Eh, anche io... Ce l'ho a crocevia. Vabbè, ormai hai messo pinnacoli. Non mi interessa che non... Comunque è strano, forse, nel liceo. Sì, anche perché è stranissimo che non posso tagliare il paracadute. Eh, il suo fatto che non puoi togliere il paracadute come Warzone non... Da fastidio. Ma perché non posso aprirlo e chiuderlo? Ce n'è uno dietro il te, amico. A me? Oh, già me sparano. Che significa? Io ancora devo attraverla. Io ero, 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 ero io. Ma sei scemo. Mi sa che ho visto gente, eh. Oh. Mi sparano. Sei con me? Sto arrivando, brodì. Ah, ma sei lontanissimo, fra... Dove vado, allora? Femme una mano. No! Non porco di quello, perché sono abituato che apri il paracadute. Sono un cretino, fra muoio. Sto arrivando, sto arrivando, resisti. Non potevo scendere così. No, mi servono le cure. Oh, bello però questo. Mi servono le cure. Bello, la capino. Non ti posso dare una mano, eh, perché se trovi le cure... Ok, se no, è un macello. Uh, questo è buono. Ma io non so neanche dove sono i miei cittadini. Ho trovato la cura. Minghi, ho trovato l'arma leggendaria. Vieni con me, vieni con me. Oh, oh! Scendi da me. Qua, guarda me. Lo vedo. Non ti posso dare una mano se ne scendi. Ma qua. Mi pushano in due? È fortissimo, bro. Ma che fortissimo? C'è pure uno sul tetto. Oddio. Oddio. Mattane, zi. Dov'è che è? Ho un'arma fortissima. Eh, io ho l'arma leggendaria. Vieni con me. È sul tetto. È sul tetto di fronte a te, fra. Questo tetto qua è di fronte. Stava qua sopra. Io ho gli scudi, eh. Se vieni con me ho gli scudi. Ok, rami gli scudi. È qui dentro, ha aperto la porta? È in casa, secondo piano, eh. Sì? Attento che c'è il pombo a me, sa. C'è il pombo a pure io. Eccolo, lo vedo. Vai. Oh, ma non muore. Non c'ho la mitraglietta. Questa bomba mi fa proprio schifo. Eh, vabbè. Ma è quello lì... Base. Come dè? L'altro che t'ava pushato prima? Morto? L'ha ucciso sto tizio, eh? Ah, non credo. Sì, sì. No, no, no. Il cazzo. Oh. Wow, ah. Ah! No, ma come? È forte. Oddio, no. Ho sparato. Però entri a one shot. È fortissimo, eh. Ma è forte, è forte, è forte. È il dio. Porco zio. Mi scappo, fra... C'è il pombo, eh. C'è il pombo, attento. Sono due, sono due. Uno squ... Ah! Sono due, fra. Dai. Devastante. Ma abbatto tutto. Se guardo la vostra live, resto in coda appena mi fa entrare. Avvisa, ma stiamo appena fa entrare di nuovo. Avvisa. Oddio, che è successo, zio? Oh, che è successo? Oh! È morto, è morto, è morto. Ah! È l'amato. È l'amato del mondo. No, ma a Pinacoli ci stanno quelli forti, sì, stanno quelli che trajardano pesante, zia, a Pinacoli. Raga, ma meglio Fall Guys. Ce l'hai Fall Guys? Sì, ce l'ho, ce l'ho. Allora giochiamo a Fall Guys. No, vabbè, giochiamo a Fall Guys. No, no, Fall Guys. No, no, Fall Guys. Ma i Fall Guys? Sì, 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 tutta la vita. Io sono un fenomeno a Fall Guys. Ah, vai, vai, vai. Andiamo, andiamo, andiamo. Signori, dopo aver preso gli schiavi su Fortnite, si va a Fall Guys. Come si esce? Abbiamo perso l'uomo, rai. In che senso abbiamo perso l'uomo? Ci sono. Eccolo, eccolo. C'è, 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 c'è. Sto avvenendo, sei su Fall Guys? E ora vedrete un pro player, raga, di Fall Guys. E come si scende, come si esce da qua? Io ho fatto alt-f4, bro. Ah. Ho chiuso Fortnite malissimo. Ah, malissimo proprio, così, ha quittato. Life crash, signori, cazzo! No, no. Sì. Vergognati. No. Allora, vai con i pupazzetti, raga, ci divertiamo. Almeno ci faccio le risate. Oh, perché non me lo avvia? Cazzo ho sbagliato. Esecuzione in corso. Possibile? Aggiornamento in corso? Che sta facendo? Vieni, Staziz. Ui, Zaziz. Il mod, il mod, il mod. Vieni, Zaziz. Stiamo lavorando con Mulari. Visto che non mi leggi, posso dire che sei un BDF. Non ho visto i messaggi. Ah, è muovi, solita. No, vabbè, andiamo a Fall Guys. Ci facciamo due risate, sperando che arrivano. Oh, c'è, non ci si è capitato niente. Dai, ci facciamo pure qualche partita con i pupazzetti. No, questo è un signor gioco. È un signor gioco. Se, Goku. Loren. Bello. Signore, è bellissimo. Moderator. No, c'è stata la musica. Zio. Allora, come faccio? Se vinci, Lupo, ti dai 10 sub. Ma facciamo una cosa, Lupo. Se io vinco, mi dai 5 sub. Se vinci tu, te nello 5 su Facebook. Assolutamente. Allora, invitami. Come si fa a invitare? Ti invito io tranquillo. Ti invito io tranquillo. Ti invito io tranquillo. Vabbè, ti invito io. Facciamo prima. Sto entrando. E io sono già dentro. Che bella la musica era. Ma questa non so se può sentire sta musichetta. Aspetta, mo l'abbasso un pochettino. Mau. Ti ho invitato. Mau. Ti ho invitato pure io. Come si vede l'invito? Ah, sei qua dentro. Ma quanto sei brutto con quel co... Ah, ah, ah. Fai il tab. No, ti sento di nuovo a doppio. Vai, fai il tab. Aspetta. Com'è il tab qua? Ok, l'ho mutato. Senti, che devo mettere? Spettacolo a copie. No, aspetta. Adesso sto entrando Staziz. Ah, muoviti Staziz. Muoviti. Muoviti per entrare. Tra 10. 10 secondi. Come si abbassa la musichetta? 10. Dov'è Staziz qua? Staziz? Ah, ecco. Staziz. Amico? Amico? Staziz. Ahia. Non c'è Staziz. Ma regà, è Fall Guys. Non lo conosci Domenico, è bellissimo. È un gioco gratuito con i cubazzetti. devi fare a gara, giochi contro altri 40-50 di loro. Praticamente devi fare a gara a vincere tutte le sfide. Ma vuole venire pure Piro? Ma Piro è un bot. E poi la vuole. Ha detto, no, questo gioco mi fa schifo. Non capisci niente. Ma io ho tornato ad avere due anni. Dai, dai, quanto ci metti ad entrare? Dai Staziz, dai che siamo carichi, cazzo. Devi entrare subito, se no perdiamo il pathos. Guarda Lupo, che cosa skin basta? No, ho capito. Ma che devo fare io? Ma è bello tu, bello. In realtà sono a livello 7 nella stagione. Non so se c'ho qualche skin. Come si cambia la skin? Come si cambia la skin? Itz Livius, Staziz. Itz Livius, tutto attaccato con la L grande. Itz Livius. Come il mio canale, uguale. Come il mio canale. Oh, uguale. Bello questo, lascia questo, Fra. Oh, quale? Il fagiolo. Che schifo questo gioco. Ma perché mi ha messo il fagiolo, zi? Ma fa cagare. Ma non ho messo io il fagiolo. Sono un bot. Ah. Raga, fatemi sistemare la cam. Oh, chi è che è entrato? Dai, ho messo... Fra è piccolissimo adesso. È proprio piccolo, piccolo. Nano, nano. Dai, dai. Io ho messo questa roba qua, io. Va bene? Con i cazzotti. I cazzotti. Ma dobbiamo aspettarlo? Dobbiamo partire. Arriva, arriva. Itz Bot. Come hai il preservativo in testa? No, mi ha mandato la richiesta, ma non l'ho persa. Senti, mi ha detto che c'è il coso in testa. C'è il... Dov'è la richiesta di Staziz? Non lo so. Vuoi sapere da me? Cazzo, faccio vedere le richieste. Ah, ecco, ecco, fatto, 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 fatto. Ok, ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Uh, questa roba. Famiglia auditore. Uh, 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 uh. Invita. A posto. Guarda che entra. Dai, dai. Ma dobbiamo giocare uno contro uno. Di non di risultare un'e solitaria, fra. È certo, fra. È certo, fra. Ma non sono le due borchie. Uè, Zanziz. Ma da là c'è il coso in testa di auditore. Starta, 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 starta. Mi sentite? Mi sentite? Uè, colo. Avete visto che c'ho la skin in testa di auditore? Ho visto. Che troiardone, Stati. Adesso lo voglio vedere morire. Che cade giù, 18. Oh, raga, io, non mi state vicino che io vi acchiappo tutti, eh. Io vi acchiappo tutti nel giro. Livio, Livio, se fai... Io troiardo anche qua. Oh, se troiardo di brutto, ti taglia. Se fai il merda, ti giuro, guarda. Io sono il re delle merda, non hai capito, Stati? Dai, Zanziz. Mi conosciuto pure di persona. Ciao, lupo. Ciao, buona sega. Ti seguivo da un botto di tempo su Facebook, è detta la verità, però... Da quando, da quando? Da quando ero piccolo, appena nato? No, appena nato, no, dai. Eri, eri maggiorenne. Eri maggiorenne. Eri, giusto, è entrato Pino, ragazzi. Sì, sono il Zendax, salve il Zendax. Buona sega. Ma chi è? È Pino un botto. Io Pino non lo posso sentire. Mamma! Ma che ci fa Pino qua dietro per la morte del cielo? Mi fa fotticare il pipino del lupo bianco. No, ci siete. Eh, te lo stacco il pipino. Io sono fortissimo, raga. C'ho bisogno di introduzione a questo gioco. Corri! Ah! Dov'è il lupo? Dov'è il lupo? Dov'è il lupo? Fatti i cazzi tuoi! Oh! Ho perso. Ho perso, ho perso. Basta, è finita. C'ho le palle che girano. Aia! No, raga, sto andando malissimo, Fra. Dai, 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 dai. Dio! Le palle, arrivano le palle. Porca miseria. Orriò! Levate. Chi è il suezio, uditore? Ti devo un castato, un castato. Io, sono io. Oh, no. Oh, mi ha trattenuto, mi ha trattenuto. Pezzi di merda. No, no. Minchia, sti cani. Dai! Ma ce l'ho, ma d'osco. Ce l'ho al bubber, ce l'ho al bubber. Ce l'ho al bubber, ce l'ho al bubber. Oh, la palla di merda. La fessa di tua sorella. Oh, no. Io mi discosto dalla fessa di chiunque. No. Vieni qua, pezzo di merda. Dai, sono caduto. Ma come si sale qui? Dov'è Stati? Dov'è? Eccoli qua. Vieni qua. Dai! Let's go! Per ultimo, per ultimo, sono arrivato facendo il tuo cuore. Ah, che schifo. Let's go, I mean, let's go. Ma son caduto, non mi girava. Non uscire, perché sennò non puoi più vederci. Maffan bagno, andate. Va, mi faccio una puzzola, vergognato. Let's go, I mean, e ci godo. Ci godo. Ma tanto mo perdete sta mappa qua, mo perdete. Ma io non mi perdo un cazzo, frate. Sanno rimettere Verdansk. Ma non adesso, spero. Ma se ci arrivano a 40 minuti, a quest'ora, alle 11 di notte del 4 agosto, decidono di mettere Verdansk. Sono stato lì alla fine della linea a fare il coglionazzo. No! No way. Infatti, dopo il tanto, non ho visto. Allora, questo è un gioco da ragazzi. Questo è un gioco, è un gioco da ragazzi. Ma no, ma in realtà... Crasciato anche agli altri di Call of Duty server. Non si sa che stanno combinando. Eh, boh. Attacco Fragger. Dai, dai, fate vedere se siete forti. Attacco Fragger. E non lo so, questo gioco va molto a culo. Buonasera, Righi. Sono crashati i server di Call of Duty, siamo finiti a giocare più pazzetto. C'è una grossa percentuale di culo. Dai, dai, corri, 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 fatti farciare. Oh no, ah, ah. Sì, stanno facendo manutazione, stanno facendo... Ma, ma che... I dildi, i dildi. I dildi rosa. No. Oddio, no, 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 no. No, 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 poffè. Si chiama Fall Guys, Mattia, è gratuito. Almeno lo era, fino a qualche... E in teoria dovrebbe essere ancora gratuito. No, che luridi figli della merda. No, 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 no. Guarda, come è girato. Guarda, ma buttate, buttate. T'ha preso la falce. Ma perché mi fa così? Cioè, questo lo... Attenzione, attenzione, uuuuuh. Però ti ammazzi alle risate sto gioco. È bello, è più divertente guardare, sincero. Guarda questi pezzi di mano. No, non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio. Pezzi di me. Pezzi di me. È caduto il pinguino. Oh, 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 sei rotta. Sei rotta. Puttati. Oh, 26, 29esimo, ancora ultimo, frate, ancora ultimo, frate, ancora ultimo, frate. Ma il salitore mi sa che ha perso. Dai, io me lo sono preso in culo. Eh, il salitore l'ho visto, non c'è riuscito ad arrivare. Sono preso in culo. Ma perché sono credo troppe volte su quei dildi perché è tutto accaduto. I dildi erano infami. Gli hanno il plug. No, no, c***o. Cosa c'è di male, ragazzi? Eh, qua non si può dire niente a questa troppa. È la moda del momento. Ma non si possono dire queste cose qua. Ma perché ci sono delle censure? Cioè, ma quale censura? Sfb è tutto censurato. Ah, allora anch'io, scusate, raga, no. Pip, pip. Pip, pip. Pip. Porco pip, mandaggio pip. No, al momento non torno sui gtari. O almeno... Pip, 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 pip. No, no. Non lo so, raga. Tutto, tranne, questa è la mia cripta. Che sei questa roba? Chiappa la coda, cioè? No, non l'ho mai visto. Adesso mi senti bestemmiare forte, te lo giuro, lupo. Mi senti bestemmiare fortissimo. Adesso commenterò in direzione sul gioco. Non parco il gioco, te lo giuro. Eeeh, dicevo, al momento GTA no, perché era troppo diventato lo stress. Vediamo se Livio partirà colpo senza coda. Al massimo forse potrei andare su un altro server. C'è la coda tu, cioè? Che cù. C'è un culo esagerato. C'è un culo esagerato. La coda, attenzione, vediamo subito cosa succede. Va verso sopra, ci sono altri due partner con la coda. C'è il marcellino, sbaglia il salto, si arrampica, non sa neanche lui come ha fatto. No, ti ha rubato la coda. No, non dite parolacce, non dite parolacce che ci sono i bambini piccoli che guardano. Ruba la coda, ruba la coda. Ruba la coda. Ruba la coda. Con il suo caschetto. Dai, dai, dai. Ha preso la coda. Attenzione, ancora Livio ha la coda, 55 secondi. Attenzione, il giullare la ruba. Attenzione, ancora Livio, segue l'uomo pesce che si lancia, però cade. Quindi è costretto comunque a inseguire. Anche Ammon Gas con il pezzo di formaggio in testa davanti, credo. Non so che cacchio stia facendo. Oh, è fortissimo, mi ha fatto il trickshot. Oh, mi fa il trickshot, fra... Trickshotato. Non ci credo, comunque. Più forte di... Guarda, più forte di Beppe Bergomi come commentatore. 30 secondi. La bolla, la bolla, sì. 30 secondi, attenzione. Rischia tantissimo in questa fase. Oddio, oddio, oddio. Oddio. Attento. Attenzione, via da cazzo. Via da cazzo. Il cizio arancione è pericolosissimo. Attenzione. Martellata salvifica, ma non va. Non va. 7 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a Berlino, bandiamo a Berlino. Andiamo a Berlino. Andiamo a Berlino, cazzo. Andiamo a Berlino, Beppe. Andiamo a Berlino. Il commento. Andiamo a Berlino. Il commento più grande inaudito. Meglio di Beppe Bergomi, guarda. Miglio davvero, stati smeglioli in Beppe Bergomi. No, vabbè, devi immaginare che io campo di queste cazzate, ed è vero che campo di queste cazzate, perché è doppio cose per vivere, quindi... Ma Telecron è una fantastica, signori. Incredibile, Livio. Sì, dicono che stanno aggiornando a un metro di verde, c'è un certo SWOG che ci sta giocando. Regà, stanno aggiornando a un metro di verde, sono aggiornando a un metro di verde, sono aggiornando a un metro di verde, sono aggiornando a un metro di verde, si, 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 si. Torno, porto, 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 porto. Guarda il momento per segnare i punti e pensare che è uno sport di squadra. succedendo come se come sarò rivedendo per la scuola vincerò stati uno più 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 abituato a giocare fortissimo di una raga che sta giocando su verdask ma se sei lo te lo giuro te lo giuro perché sta dicendo l'uomo impazzito cosa cazzo o attenzione primo pallone del gioco del suo primo punto tocca d'amungas detto anche pareggia zio frenchi delle cronaca mi spezza attenzione palo al centro un vecchio di allivio praticamente si sta quasi facendo autorete attenzione per pallone attenzione ancora zio frenchi bel botte risposta siamo solo uno uno è tirata sulla rete sul net passa su frenchi ce la fa prende campo olivio non so se riesce a fare il secondo colpo è molto vicino che freghi quando c'è un po di 1 2 a 1 2 a 1 si fai si fai non ridere ragazzi Raga non mi fate vedere Che cosa succede 4 a 1 In scioltezza 30 secondi alla fine 3 punti di vantaggio Non lo so stanno dicendo Non sto capendo Chiameremo Livio Mila da oggi in poi Che cosa fa Ancora 6 a 1 Sono invincibile Anche su qualsiasi gioco Cazzo datemi qualsiasi cosa dove c'è una palla L'uco bianco è un infarto cardiocircolatorio Non sta più parlando L'abbiamo citato prima Non so quale notizia Nel frattempo è mutato No Perché non si sta capendo niente Se è un troll oppure no Se hanno rimesso Verdas È un troll Mi ha fatto esultare per niente E non si capisce Perché stanno vedendo tutti Verdas Cazzo Tutti Ma in che senso Ma penso che sono Forse sono dei video vecchi Forse Stati di qualcosa Lupo No bro Ci hanno cercato di capire Sono nella chat di qua Ci hanno cercato di capire Che sta succedendo Che forse stanno facendo Quell'aggiornamento lì Che non va in serve Perché si ha metto Le notizie più o meno paghe Con fonti più o meno incerte Io arrivo al round finale Let's go boys Non lo so Sono fonti Non Non confermate Detto anche a mi cugino Fonte a mi cugino Che è la fonte più famosa del mondo Come quello che ha la play 6 nel garage In Canada Va bene Andiamo avanti Attenzione Questo è un roll Con le barriere Round finale Raga È per la coppa Beppe È per la coppa Beppe È per la coppa Deve stare concentrato Deve stare concentrato Per la coppa Non insaccato ovviamente Parliamo del europeo Divio che fratello Scivola come un bot Riesce a recuperare In qualche modo Attenzione agli strati Di piattaforme Che si riducono Uno dietro l'altro Velocemente Con una strategia Molto Deva Cazzo Cerca di tagliargli La strada Con questa musica Molto Pimpante Sembra quasi Una sottospecie Di drum and bass Ma non è proprio Drum and bass Attenzione Livio Così dicono Che è tornata La mappa vecchia Sta tornando Ma vanno i server De god No non vanno ancora Nel frattempo Lupo Bianco È disperso Nei server De god Nelle notizie Sì Perché non si sta Capendo niente Forse se gioca Di nuovo su verdask Farà Facciamo la maratona Oddio sono morto Parco 2 C'è il liveo Codo Codo Perde la coppa Beppe Perde la coppa Non ci credo No ma ancora non vanno i server Mi sa E invece Ha vinto questo tizio Con gli occhiali Reductor Sempre sul podio Vai Ha vinto Reductor Torre Ha vinto Lo segnaliamo Nome offensivo No ma perché Segnalazione a caso Guarda lì come sono bellino Io guarda Ho perso la prima mappa Lupo bot Il social No non vanno ancora i server Però io spero che non stiano trollando Perché io li distruggo Perché mi hanno fatto esulta come un pazzo Stavo perdendo il cuore Ma secondo te Metteranno mai per dance Sì lo mettono perché Potrebbero metterlo Perché Per far tornare tutti a giocare In modo tale che poi la tolgono E si va tutti su warzone nuovo Cioè è marketing zio È marketing Ma si tiene Tengono merdera fino alla fine Ma chi Ma chi Fra Devono recuperare i giocatori Vetti pronto dai Vai Vai Stati calmi Stati calmi Io devo Devo cambiar mia skin No dai Fai il Zauditor Dai È una cosa importante Adesso devo mettere Baloo Del 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 Della giungla Prondo Prondo Ma Piro Sempre Piro Prondo Con voci diverse Guarda quanto sono bello Buonasera Chi è Chi è No ma è un video vecchio Mi sa Quello di Savi Credo Allora Stiamo per conto Dell'Enel Lei questo mese Non ha parlato Mi avevo discorrente Da discord Tanto non mi si sente Chi è che sta parlando L'Enel Eh l'energia L'energia È nell'energia Lei Ma non tu sono bello Con la skin di Baloo Del libro della giungla Si deve bollettificare Livio Lei ha capito Sì Sei un bot La bolletta La paga Cazzo sono arrivato in finale Mi sono distratto un attimo Porca loca Eh Perse le 5 sub di lupo Ma spesso Se hanno di capire Perché Savi è su Verdask Ma non capisco Se è un È un video vecchio Eh lupo Sveglia Sveglia Lupo Ma tu sei lupo bianco Abbiamo una notizia flash Lupo bianco è stato ufficialmente trollato Da se stesso Che continua a pensare Di poter giocare a Verdask La mettono ufficialmente Alle 3 e mezza di notte Bru La mettono ufficialmente Alle 3 e mezza di notte Così stanno scrivendo Ma chi Ma che stai dicendo Banna lupo Banna lupo Basta No Non ce la faccio più Che sta succedendo Lupo Lupo Vai in bagno E vai a fare un cioffocò Livius è un bot E quando Dammi 100 euro Se le 3 e mezza di stanotte Mettono la cosa Mettono 100 euro Allora facciamo così Non metto niente a nessuno Mettono Verdansk Lluo Biago Poi un cioffocò E' un cioffocò E' un cioffocò No mi disso No mi disso No la palla di neve Mi ha preso in pieno No regà ma è un video vecchio Quello la suo Mi sa è un video vecchio Regà Certo che è un video vecchio No è un video vecchio Il suo Oh Mannaggia cazzotti Di tua sorella Vabbè Sì Eh I cazzotti Della sorella Mi hanno sbalzato L'anima dell'inno No No Sissiulia Che si fa? Sissiulia E che bordi? Eh che si scivola Sì No guarda qua guarda Oh Ma 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 No No Questo 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 Gioco Qualificarsi Questo gioco Questo gioco Io lo distruggo Questo gioco Dunque regà no Mettendo tutti quanti i video De Verda Sono video regà Quelli che stanno facendo vedere adesso Non c'è ancora Però se veramente alle due e mezza O alle tre e mezza Esce Verda Scherzo Famo la maratona Lo dicono tutti C'è sani tweet Ma Tutti chi? Mi fa tutti Tutti anche quelli grossi come streamer Ma dovrebbero fare un aggiornamento Oh Oh Lupo Se me rimettono Verda Mi devi chiamare su whatsapp Capito? Eh Mi devi chiamare su whatsapp Faccio E ma io non so se riesco a resistere finale 3 Mi metto la sveglia Mi sveglio Se vedo che è acceso Fate la live L'ha detto papà francesco Guarda che sta succedendo Guarda Dai mi avete fatto perdere voi la notizia di Verdansk E Activision Bot Che non riesce a superare neanche il primo livello Cos'è sta roba? Conta la frutta? Sì ma voi traiardate Mi mostrano una quantità posizionati sulla casella di frutta corrispondente a quel numero E dove cazzo E dove cazzo sono gli schermi? Ah questi qua 11 Come 1 Uh 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 Eh Ma non ho contato la frutta No raga ma sa vi sa con un video vecchio Ancora non ho uscita 3 Cocco 1 Ma come sono fuori raga? 1 1 1 Cocco 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 Raga ma è un video vecchio È un video di quando stava ancora sulla Playstation lui Ma se vede proprio da come si muove Allora Raga sto vedendo ora il video Raga sto vedendo ora il video Di Sabi 1 2 3 4 Se vedete la visuale È da Playstation E' un video quando lui giocava ancora sulla Playstation Lui adesso è da computer È un video vecchio il suo raga Ho un mango e quattro frutti da passione E sali C'è c'è un uomino imbecille 2 2 Ah cazzo è 2 qua Questa è questa è questa Ma come si stava a sapere il 2? Ma dove è il 2? Sul muro No raga è un video vecchio È un video vecchio Si vede da come si muove È un video della Play Quando lui giocava dalla Play Lo sto vedendo ora 1 2 3 Eh Ari dai È un video raga È un video Lui gioca da computer È dalla Play lui Qua è sulla Playstation Raga No Sì Boh Non lo so 2 banane Infatti lo stanno scrivendo Se è tornato a giocare dalla Play 5 E qua quando stava dalla Play bro Ma quanto cazzo dura sta roba Non sto giocando seriamente Raga Stanno mettendo il FOV sul mobile E le massi si giochi con il VR What? Non lo so Vabbè comunque Al momento i server di COD Non vanno raga No e non vanno al momento Danilo abbiamo fatto il torneo È finito il torneo E su un partito i server di COD Non funzionano Non stanno funzionando Molti stanno trollando Dicendo Dicendo che stanno mettendo Verdansk Ma non si sa Lo scopriremo più tardi Appena ritornano i server di COD Scopriremo che succede Succede Che metteranno una patch E ci saranno più citer di prima Questo è quello che succederà Più o meno Io questo lo odio raga Morirò subito Non sta giocando Sai regà È un video vecchio Se volete vi metto anche io Un video vecchio di Verdansk Lo faccio da per 4 ore avanti Bello Io questo io lo odio Devi correre in avanti Stati No devo Ma cos'è sto personaggio che hai messo Corri in avanti sai perché? Perché c'è la ventola che ti insegue bro E ti butta giù È una gara fra So che non sembra ma è una gara Ma sta trollando È da play Sa che fai? È tornato a giocare da play Lui è da computer Quello è un video della playstation Oddio Stati Oddio Sta arrivando la ventola Te l'avevo detto Oddio Oddio No vabbè Ma che hai fatto là? Ma che boll'hai fatto? Te l'ho detto che ti puoi andare a voler Avanti bro Impazzito Ho provato ad andare avanti Però che devo fare Ma peccato l'avete perso GG Grazie Ma che dopo questa volta Riescerà a superare il primo livello forse Però Vi dico già Vi dico già Che Cioè Dicono che forse Stanotte la mettono Così stanno dicendo Sui tweet eccetera Però non sono sicuro Ma perché dovrebbero rimettere Perché sta morendo il gioco Sì Sta morendo il gioco Se mettono Verdas Iniziano a tornare tutti a giocare E tra l'altro ci sono le World Series a breve Quindi farebbero le World Series su Verdas Ma avrebbero fatto Avrebbero Avrebbero fatto Avrebbero fatto Il marketing funziona così Avrebbero fatto Trappellare qualche Qualche leak No non fanno trappellare nulla Fra Non fanno trappellare mai nulla Hanno creato la mappa nuova Le World Series Devono farle sulla mappa nuova Mica la fanno sulla mappa vecchia Io penso E fra Per fare hype La fanno sulla mappa vecchia Zio Perché Caldera non ce la caca nessuno A te credo Fa schifo Vai 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 Ebbè non vedo l'ora Lupo perché secondo te Battlefield non è riuscito a contrastare Code No No Secondo me Non neanche tanti bug Perché Code Stava pieno ancora Pazzeppo De bug Il problema è un altro È che Battlefield punta sulla grafica Punta molto sulla grafica Non sul Ma regà L'ultimo Battlefield Fa schifo regà Cioè dai Punti Sì è vero Ma no È che Non c'ha quella giocabilità di Code Capito Punta solo sulla grafica Non Non ha quella giocabilità Che ha Code Tutto i movements A Code Di quei tre quarti dei player Non sanno più fare niente Non ci sta movimento Non c'è nulla Il personaggio non si muove Sta incollato Però la grafica è bella Ma in teoria Non è che un soldato Con una K Prende e salta È irreale Code Eh lo so Però È sempre un gioco Zio Cioè non è che È sempre un gioco Che è quello che c'ha Godzilla Non lo so Sono partito salto Sono partito primo Devo vincere per forza Madonna Zio Ma guardate come devo cadere Guardate come devo cadere Perché la gente è mongo No Guarda guarda che me spingono Sti pezzi di fango Io sul velluto raga Sul velluto Raga qualcuno che riesce a vedere Se va a Warzone Che ha provato a fare l'accesso Oddio 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 Come sei alzato È detta così Suona male Non si può cadere così Però Ti ho visto cadere lì Dai dai bro Dai dai Guarda Però si può cadere Perché la gente è un Q Inferiore a 20 Cristo Dio No No Non so Cazzo il gioco Devono fare il test di intelligenza Le persone Prima di giocare i videogiochi Se non superi un certo Q Non puoi giocare Basta Ho deciso No Minchia Dai però No io sto per Sto gioco Sto gioco è proprio È meglio Warzone Con le bestemme Guarda Dai Io sto in easy mod Sto in easy mod Sto arrivando Sono al traguardo Oddio Oddio Ciao a tutti Oddio Posso salvare un esemplare di bot Con il caschetto Che si chiama X Livio Che ha le prese Con delle piattaforme di vario colore Salta bene sulla piattaforma gialla Deve arrivare su quella viola Salta bene anche su quella viola Salta bene anche su quella viola La sua bagiorino magico Let's go Attenzione Livio Livio è in fase finale In drittura d'arrivo Dai 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 In drittura d'arrivo Si mette a litigare con un tizio Che pare un po' uscito da un club Da Domaso No La sua falcata La sua falcata viene anche Plattata Non si qualifica Sì Mi sono qualificato Grande lupo Andiamo a Berlino No Non fa giocare nessuno Giovanni Sono al momento Sono in manutenzione Tutti i server di Call of Duty Ma questo è pazzo È più stressante di God Sto gioco a volte Ecco lui ha capito Che il gioco si svolgeva al contrario Cioè non dovevi arrivare Alla fine del percorso Dovevi rimanere all'inizio È stato eliminato Oh io sono passato Stavolta Anche io Sto morendo No Non morire Almeno se ho passato a sto livello Poi Vabbè Mò perdo sicuro Perdo sicuro Buonasera ragazzi Sono Topolino Volevo dire Non vi seguire lupo bianco Su Facebook Non vi seguire l'invio Su Twitch No vabbè Vi deve far zeccare parecchio No mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Oddio Allora per dire la parola magica Tisca Tisca Topolino Lo vuoi che tu Giustamente mi hai conosciuto stasera Io sono fondamentalmente pazzo Ecco Ho questo problema Meno male Meno male Siamo tutti i pezzi di te Grazie Cos'è sta mappa Bellissimo questo È il mio preferito Sono fortissimo sto gioco Eh ma non carica Non sta andando Tutti i giochi deve traiardare Se gli dici Adesso gli do Fate il nintendo Mi devi fare la speed Muoviti attraverso gli ostacoli E completa due giri del percorso Ma in che senso Tutti i percorsi Sono abbastanza forti No vabbè Abbiamo perso Cioè almeno io ho perso Sicuro Non saltate qua Ma guarda questo Testa di Testa di Testolina Perché ti inerbichi Oddio Perché mi salta Dai Guarda Eh oh 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 Odorodo Eh ma allora sei un po' stronzo Eh Fattelo dire Ma porco di quel discord No ho preso la barra in the face No ho preso la barra fratelli Levate dalle scatole Dai che posso recuperare Guarda sto Oh che caccio è qua Guarda mi ha fatto un po' di blocking Nooo Primo Primo signori Primo No ho detto raga Questo è il mio È il mio gioco Questo Oh che ho fatto No io Io ho iniziato a saltellare Senza motivo Ma che ne sai Ma perché mio mio Era 104 Scusate Sono troppo No raga No Regà Regà Non stanno giocando Regà Non stanno giocando Vi ripeto Boh Fanno andando a vedere Allora Stanno mettendo dei video Vecchi signori Come ve lo spiegà Ma chi C'è che fa il bar Però aspetta Forse adesso lui è entrato Perché vediamo Forse a lui Vediamo Forse gli sono andati i server Vediamo un attimino Ah aspetta Adesso lo cambio Adesso lo cambio Bruni Ti sei salvato solo tu? Allora Vediamo Lui sta facendo l'accesso Adesso E sta provando a fare l'accesso Vediamo Ancora non sta giocando Sta facendo controllo Aggiornamenti Almeno Sto vedendo Adesso fa entrare Vediamo Vediamo Se lui entra Entro pure io E poi è finita la magia Io dopo vi lascio Dai io finisco questo Massimo Buonasera Ancora Ancora però sta facendo controllo La giornalità Lui Volevo ricordare a tutti Che oltre a seguire i Simpson Dovete seguire Lugo Bianco su Facebook E Livio su Twitch Ma chi era questo? Quello personaggio La presente bar Nei l'ubriacone dei Simpson Sì sì Forse sì Forse sì Forse sì Non ne sono sicuro Oddio Oh Anguri e banane Meloni Che sta succedendo qua? Arance Lì viene dal fruttarolo No Ma questo è facile Una scarata Ah ma qua ci sta il trucchetto Fra se ti metti Oh La margheritina è la più forte del live Livio per le posizioni Importanti Eh no Invece l'ha guadagnata Oh Attenzione Arriva a 7 Dai non fa il cretino E poi si qualifica No vabbè guarda qui Si sta dicendo banane addosso Di tutto Fra quello sta per cadere Che poi anche detta Anche così Detta così Banane addosso Può sembrare anche equivoco Cioè C'è da dire E' ancora bloccato Su controllo aggiornamenti Comunque raga No Stavo facendo entrare Sì sì L'ho vista l'ore L'ho vista adesso Mentre caricava Cioè adesso L'ho vista qualche minuto Mi hanno svegliato Dicendo che c'è Verdansk No Dicono che Essendo che i server di code Non stanno funzionando Dicono che forse Stanno facendo un aggiornamento Dove mettono Verdansk Però Non si sa Per fare l'aggiornamento In cui mettono Verdansk Poi dovrebbero comunque Rilasciare l'aggiornamento Cioè l'aggiornamento Per rimettere Verdansk Ora un finale Quanto meno Di 40 giga Non lo so Regà Non lo so No Ma è strano che Raga È impossibile Che mettano Verdansk Bisogna capare Calonda Cambia titolo Alla live E metti una live Vecchia Su Verdansk Dice che Accogliere le sfere bollenti E lanciarle Per buttare giù Venga Devevo trovare la live Vecchia di Verdansk Vela piazzo E faccio fiducia Che sto giocando Oh pazzo di merda Oh queste sono queste cose Ma per cammino per cazzo Oddio 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 Non dovete prendere I fagiolini No I fagiolini Levate da sto fagiolino Levati da questo fagiolino Anche questo è molto Intagliabile Non lancerlo a me No E finisce di sotto E finisce di sotto Finisce così L'avventura di Livio Scusa ma bastava scappare Invece no Ti sei andato a mettere vicino a quello Zio è pieno È pieno Dove cazzo scappavo Guarda qua Dai Ditemi che Cod Si è ripristinato Eh vediamo Dice Massimo Che forse Almeno 90 giga Di aggiornamento Con Verdas Che chi lo sa Ti pare che non esce un leak Da questa impossibile Ah non lo so Allora vado a prendere Una bella Vado a prendere Una bella live Di SWOG Eccetera La piazzo in live Comunque hai detto Mario adesso sto giocando Funziona Vediamo Dice che è tornato Cod Sta rifunzionando Provo Provo a uscire Provo Amico Tu vuoi venire su Cod Addio ragazzi È stato un piacere Stati Ciao lupo Bella bella Stati È stato un piacere Perché Perché non è Su Discord Salutamelo No non lo so Ti saluta Zazzis Ti saluta Pensavo fossi su Discord Dicono che funziona Adesso Vai a vedere Vai a vedere un po' Sarei qua Sto andando Sto andando Fum Ha lanciato la banana Questa Amico Pensavo fossi su Discord T'avevo chiesto Se volevi venire a giocare Su Cod Che si sta andando Al bacetto Sti due qua Che sta succedendo Ma No frate Non puoi capire Che scena sto vedendo Ma Ma No Ma Dai vieni lupo Eh beh Si stanno abbaciando Sti due Aspetta Aspetta No Che infame Allora adesso Torniamo E raga Però volevi Come funzionava Non ci voglio credere Ha vinto Ha vinto uno Con i fiorellini in testa Si è lanciato anche giù Cioè Mattia non funziona Non lo so Prova a vedere se va Allora Che cosa Avrei fatto la Stessa cosa Dopo che mi sono sviato Mio cugino Mi ha mandato una foto Di Verdas Che sta trollando Probabile Fra Cioè no In realtà Sono usciti dei tweet Che dicono che Alle tre di notte Mettono Verdas Provo Allora vediamo un attimo Una cosa Non si sa Raga Cioè tutti trollano Tutti comunque Ci stanno trollando A me va Arrivo 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 su cod Stanno troll Tutti trollano Tutti Signori Che sta succedendo Basta porco Due Basta Adesso metto Anche io Verdas Metto un vecchio video Bro Basta Finito Ok Sto rientrando Ragazzi Sto rientrando Sto rientrando Su Campioni di Verdas Ma va Non ci credo Ma va Ma va Oddio raga Non ci credo Dai non fare il cretino Ma ti pare Ti faceva l'aggiornamento Stavi qua fino alle tre di notte Per fare l'aggiornamento Eh sì Eh sì Fra hanno fatto tutti Un clickbait Tutti un clickbait Per fare più spect E voi Che ci avete Ci siete cascati Esatto Esatto 6.000 e passa Spettatori Perché per la curiosità Cosa Blablabla Clickbait Non ci sta Aridaglia Non ci sta Verdas Porco No bestemmio Non ci sta Verdas Sono video vecchi Vi stanno trollando De brutto Sei on? Sei dentro? Poi Se lo dovessero Veramente mettere Alle tre e mezza De notte Non si sa Ma al momento Non c'è E mi sembra strano Che gli americani Ci stanno a giocare Perché Che fanno Loro giocano E noi non ce l'abbiamo Qui con noi L'aggiornamento Raga i server Sono tutti condivisi Appunto Cioè Non è che se io Faccio start Ho una wager Contro due americani Non è che Dove cazzo la giochiamo? Loro su Verdans Che io cos'è? Rimango Appunto Che famo? Noi giochiamo Sull'aereo di caldera Loro giocano su Verdans Ma raga Vanno trollato De brutto Vanno preso Per il culo De brutto Ma tanto proprio Eee No Non mettiamo Brawling in chat Sei on Bro? Yes Vai invitami Che voglio entrare Nella lobby italiana Eee Vai Ti invito Ho invitato Vedi c'è Campione di caldera Blablabla C'è caldera Signore Vai Eh discord non va Devo cambiare Come discord non va? Adesso te lo Adesso te lo mando Cazzarola come fa Sì 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 No no Adesso è ripresa a funzionare il gioco Ma avranno avuto dei problemi Proprio loro Con i server in generale Qualcosa Sarà andato Sarà crashato qualcosa Sarà crashato qualcosa Aspetta l'ora eh Aspetta l'ora Io arrivo subito Ah vadano attivo in bagno Arrivo subito Parapapà Perché Marco 2 Guardi Che fa che male Veramente malato Come la dose Non è che si addormenta Stiamo parlando No 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 se vanno No no se vanno No no se vanno Però la cosa Mi puzzo un po' Come mai? Ci sono organizzati tutti Cosa sceneggiata Le fa finta Che c'è stava Verda Allora Ma Boh Ancora Non l'ho capita Sta cosa eh Sta cosa ancora Non l'ho capita Vabbè Siamo tornati Solo che mo' Sono freddo Cioè ero caldo dal torneo Bella Bella Buonasera Allora No stasera Samu Solo chi è abbonato al canale Fra L'analogico Ok Andiamo Bella Ale Buonasera Tu hai contro No? Sì Sì Tutti e tre sopra Tettuccio Sei morto lupo Non è vero I love you Baby Hai visto questo? Talmente questo non c'ha capito niente Ahah Bravo Ma brah Ma brah Ma brah Sei stato un grande ma quello un po' stupido eh Un bel po' stupido Eh no Attenzione Dicono che hanno voluto dimostrare da Activision Eh Perché la cosa comunque Sai com'è La trollata La poteva pensare Uno Ma tutti insieme Vuol dire che stavano organizzati Con sta cosa Quindi vuol dire che Volevano fare qualcosa Eh L'ho pensato anch'io Poi da adesso Che c'aveva secondo me Un secondo fine Quella roba lì In realtà Niente Preso di schiaffi A prison Se può scendere sulla parte Sono morto Morto anch'io Ah è finita così proprio Vabbè Fa il gioco ancora Bella Bella No sei tu Sei tu Peccato Bello Ti è piaciuto giocare Nei server italiani? Sì Sì Vabbè Ma sono freddo Come fa ad essere freddo? Cioè Vieni da Da Fall Guys Tra iardato su Fall Guys Sì perché adesso è la stessa cosa E ma No Ho scritto Violet Aspetta In PVT Eh Mo devo ascoltare Devo ascoltare Signore Aspetta un attimo A mio cugino mi ha detto Che la PSS è nel garage Dello zio Perché lo zio Conosce il presidente Dalla sua anima Non può farmela vedere Vedere Abbiamo giocato con loro Sì 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 E che torna Verdansk Stai sereno Lupo Mi dicono Dalla chat Mi ha detto Non si può spostare Bro Quindi Se tu proprio Non puoi Ha detto Al massimo Vuoi cambiare compagno Capito Ma perché Non si può spostare A hit no Perché io l'ho data L'ho un posto Dalla settimana fa Con ci colla Mi mette in difficoltà A me Blablabla A hit non si può spostare Ok ci sta E quindi Ok quindi Adesso non so Eh Che due maroni Oh Che botto Mi è arrivato Eh Siamo pure un attimo A tarandelle Perché domani Abbiamo la finale Porca miseria Però Lì Il son C'è Deve dire Come Non lo so Non so Come faremo Eh Questa cosa roba Eh Ma gli scrivo Non si può neanche anticipare Ancora abbiamo finito Stasera Abbiamo fatto 6-0 Stasera Abbiamo finito 6-0 Abbiamo finito Verso le 10 Erano 10-35 10-40 Capito 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 Eh Lo so Mi hai sentito No Sì 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 Ti ho sentito Allora Ma non No Non è che hanno sistemato Regà Secondo me Sono crashati I propri server Di codi Sto momento Che non funzionavano Nulla Palle Però Eh Oh Quanto ci sono Qua sopra a terra Sta pushando Eh lo so Sparando anche io Quello Ma torno Annotte Lulu Ok da sotto Da sotto Da sotto Sono due Sono due Sono due Sono a terra Ah non è lui Oh non è anche a terra Interessato Ma lol Eh ma ci stanno ancora Le amici Sono tanti poi Oddio Dai che palle Hanno pure restato Il mio Ok uno Me l'ha dato Oh Ma ha aperto Il paracaduto È giù Eh No 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 Scusa Buonasera Emiliano Eravamo un attimo Impegnati Ma non si capiva Se c'erano nemici Oh infatti ci sono Guarda che campo Raga Qui sopra Il comodino Fatto Grazie raga Ah gli altri Le ha pingati A idwater Non sono qua Non sono qua C'è Si parce C'è Do 30 Martin Garrix Adriano Però 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 Non c'è Lo sciopero Tra sopra 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 No Vabbè Raga Io Sto male Io Porco Di No Così Forte Fra No Vabbè Ma Non abbiamo più i soldi Mi sembra giusto Impazzisco 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 Delle armi di merda Boh Io c'ho i soldi qua No Stiamo di evitare Ma che siete in live ragazzi Eh sì Ah E ditecelo Vabbè Vabbè Ma Non c'è niente di particolare Ha detto Porto Dio Vabbè Vabbè Questo gioco Adesso mi sta facendo Dejitare Tu vorrei che cerco Soldi C'è 900 Ma che Cos'è Che farlo Che farlo Sotto Dove 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 C'è un'altro C'è un'altro C'è un'altro C'è un'altro sopra No vabbè Bucciato No vabbè So due So due So due So due So tre Addirittura Tre 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 Ah Mi fermo un'altro Quattro Ma sono quattro Sono quattro sopra Zì Quattro Pronto? Pronto? Buonasera Rocco Buonasera Non c'è male Un po' Un po' Deluso Per delle Faste Speranze Tutti Stavano Di Oh Sta per Tornare Verda Sta per Tornare Verda Ci hanno Fatto Mettere Il Pensiero Invece Non è Vero Guarda Quanto No vabbè Niente ragazzi Ma Mh Cur Pazzisco 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 Oh Mannaggia Guarda Guarda Quello Come Gio Arriva Uno Col Paracadute Attenta Uscire Attenta Uscire Che c'è Gente Da fuori So Corn No Io Non Me Ruba Le Armi Sì 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 Scorbutico E L'uomo Di C'è L'uomo No Mh Sparano Questi Ma Mh Preferivo Quando I Server Non Funzionavano Ma C'è Mh Che stazzo Di chi l'ho fatta Questa Ma c'è Sta uno Qui Oh E la faccio L'uomo Si G Invece Porco Di quel Porco Niente Niente Vorrei un'arma Questi camper Sto per Tiltare Preferivo I Pazzetti No C'è ancora Gente qua Sopra Aiuto Che Che sta mettendo Le mina Uno sul tetto Mio Lib Dio Caro No E C'è gente Sopra Sono Quattro Da inizio Partita La Uh Uh È Sceso Bambino Bambino Qua Dentro Quattro Dentro Quattro 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 Bella 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 Mi sto per insultare Mi sto per insultare Che lupo impazzito Volevo vedere la sua faccia Cazzo No Ha fatto la clip Però Tanta pazienza Che palle Ma la finale contro chi è domani? Contro sto cazzo Eh? Non lo so A hit Non si può neanche fare la 19 Ha detto neanche la 19 Si può fare Ma te lo dico Ma secondo me Quelli che sono arrivati in finale Fra Sono Non sono forti Come i primi turni Che abbiamo fatto Ho visto il bracket di là Era molto più semplice Il bracket dall'altro lato Però devo controllare un attimo Dov'è Braket Ma ti dico Siamo contro Siamo contro Nella finale Sì La finale siamo contro Ravioli E cambari spritz Ho tolito tutto Mi fai ridere Che tu mi fai ridere Ma che ho detto io Che ho fatto Ma no Ma quelli Ravioli e tortellini Mi dici Così si chiama Fra Ravioli e cambari spritz C'è C'è bro Vabbè ma zio Ma se giochi da solo Lo vinci comunque Allora Ma cazzo dici No Poi hanno fatto anche un game Con 23 e 20 Però Grazie Ale Capirai che Non Penso che I più difficili L'abbiamo beccati Qua Nei quarti In semifinale Perché la finale Dovrebbe essere ancora più easy Ah Non puoi mancare Proprio in finale Che palle Fra C'è l'ultimo Gior L'ultimo L'ultimo Serata con i colleghi Prima delle vacanze Fra C'è No Lo so Eh no Deve gioca piro Nei Oh Mamma mia Mamma mia Come ti raiarderà quest'ora Bella Dorian Buonasera I pupazzetti Non ti fanno abbassare Il KD Bravo Bravo Eh quello è il bello Che posso chiamare Tiro No Non mi rompeva il cazzo Arrivare in finale Non giocare la finale C'è un conto se non giocavo La semi Cazzo ti ho aiutato io C'è Mi ho aiutato io e te Non è che Dai ma che due Non lo so come puoi organizzare Ma sicuramente finisce se a zero Non è che Eh finisce sicuro se a zero Fra Penso per le dieci e mezza Abbiamo finito bro Aspetta un attimo La facciamo Devo rimettere per forza gli occhiali Rega perché Mi sta iniziando A far male Non ci sta Voglio giocare senza occhiali ma Se no mi fanno male gli occhi Allora Eh zi Scusa Bella Simone Buonasera Grazie mille per il 50 stelle Dicevo Scusa non vuoi Dieci e mezza finisce Capito La famo sei a zero Cioè abbiamo fatto sei a zero stasera Fra Ma anche quella domani Che dovrebbe essere più easy Quella di domani Dieci e mezza La portiamo a casa La finiamo La portiamo a casa Cazzo Figa Povero Scusa A che ora devi andare con i colleghi Alle sette bro Ah E beh vai alle sette Fai due ore Fra Sette Otto Nove Nove Torni Sì bro Storto Torno Torno Che te frega Fra A me io pensavo Dovessi andare Verso Le dieci Dice qualcosa Adesso Adesso faccio bro Oh se vai alle diciannove Che te frega Torni alle nove 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 Un quarto Se vado vado dopo Guarda che alle dieci e mezza Li trovo già tutti Se no vai Poi ritorni E poi rivai Prima vai E poi dici Regà Devo purtroppo Devo per forza fare Devo finire un torneo C'ho la finale E poi torno Vai vai con loro Poi Tipo Verso le otto e mezzo Otto e quaranta Li lascia E poi ritorni di nuovo Così sei mezzo Ammaccato Vieni Giochi il torneo Vinciamo E ti vai a riammaccare Dovresti fare così Allora domani Abbiamo la finale Regà Però dopo Domani Livius Deve andare a festeggiare Quei colleghi Che è l'ultimo giorno Quello che ho capito Prima delle ferie Poi vanno in ferie Cazzo però Perché devo farlo io Perché non è la finale Dio Eh lo so Che devi fa' Vabbè Calcola che i turni Più difficili L'abbiamo passati insieme Eh lo so Eh no Ma non è Non è questione di Cioè per vincere Lo sai Vinceresti quasi anche da solo Bro Io sto dicendo Per principio No Finire con te Iniziare con te Di fronte a noi Ah è entrato qua Entrato Sono tre Sono tre Eh Uno fatto L'altro è sopra Mi sa Uno c'è qua sotto L'altro è sopra Credo No No Oh ma ne fingava tre Ne fatti due Dov'è il terzo Io due ne ho fatti Il terzo Potrebbe essere Il terzo Ah è sopra di qua Da te Ok Uè il bombardament No lo so Fammi sapere Zì Perché se no No beh Perché Che faccia sapere Certo Non ti lascio da solo Non ti lascio Se non trovo nessuno Lo faccio Oh C'era uno sul tetto Il livello Perché mi è scivolato Così A Piro Non c'è domani Eh adesso Chiede No 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 Ma perché Sempre a me Devono sparare Oh Odorco Due Guarda questo Guarda Ah Quanta pazienza No Vabbè Siamo morti così Io mi sto pure Dei sconcentrando S Uuuuh Uuuuh Bisogna essere staggo Sai che tra un po' vado Raga Aia Quante Eh mezzanotte e mezza Mi sa una mezz'oretta E vado Raga Magari posso sapere Che domani C'ho un po' di cose da fare Sempre di musica E poi C'ho Niente La sera Dovremmo fare la finale In teoria Dovremmo fare la finale In teoria In teoria In pratica Si dovrebbero vincere Praticamente Come si chiama Dei buoni Amazon Dovremmo vincere Mentre il secondo posto Non mi ricordo che cosa vince Il secondo posto Non mi ricordo Però vabbè Mi pare che il primo posto Quello meglio Si vincono dei buoni Amazon Sempre meglio di nulla Prendo Mi compro qualcosina Ecco potrei comprare Una webcam nuova Che quella la Ogni volta che devo usare Per il monitor Fa da mità problemi Ciao Come stai Chi è No Se la faccio io Salve Buonasera Se la faccio io Finisce le dieci e mezza E poi fan culo Esco le dieci e mezza Eh capito Ti dicevo Ma no fra Facciamo 6 a 0 Subito Easy Come stasera Scriviamo le dieci e mezza Guarda che Quella di domani È meno tosta Di quella di Quindi La vinci Easy bro Secondo me La vinci proprio easy La vinci 6 a 0 Subito Eh lo so salvatore No dai Mi sa che allora ci sarò Calcola che Allora Sono 6 Cioè se Se fai 6 a 0 Sono 6 partite Ogni partita Dura 15 minuti Quindi sono 15 e 15 e 30 E 15 e 15 Fanno un'ora Quindi 4 partite Sei arrivato un'ora E fai le E le altre due Sono 15 e 15 30 Un'ora e mezza Inizia alle 9 Beh 10 e mezza È finito Però se le finisci tutte Nel senso che Se moriamo prima Cioè Calcola 15 minuti Io Frate Io Io mi ammazzo prima Se siamo sopra Sono tutti Gli altri Mi faccio pinta Di fai dare Ok No dai Non è corretto Non è corretto La gioco normale No ma ti dicevo Fra calcola che Esageratamente Se fai 6 a 0 Arrivare le 10 e mezza Perché Se inizi preciso Alle 9 Puntuale alle 9 Tu per Il game Dura 15 minuti Se tu Lo finisci Lo vinci Se non dura di meno Quindi automaticamente Potremmo farlo durare Anche di meno No 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 Diciamo che Se siamo in vantaggio E a me succede Che mi sparano In 80 persone E se Siamo in vantaggio A volte No no Diciamo che a volte Facevo le giocate Impossibili No Cioè tipo Stasera mi hanno Sparato in 80 E io ho continuato A giocarmi Fino a fine Alla partita No Facevo le giocate Alla random A destra Silistra Mi facevo Beccare la matrix Magari non la faccio Cioè tipo Tipo quel game Lì Dove eri rimasto Solo io No Dove tu hai detto Ah beh ma ormai è finita Che cazzo Vado proprio a fare Ah tabbo fammela provare L'abbiamo perso tempo Ma in realtà Loro là erano già morti Eravamo già vinto Non potevano neanche tornare Capito per dire Quindi era nutric Ma la giocavo fino alla fine Tanto Ormai loro non rientravano più Eravamo sopra di kill L'havo devo farmi ammazzare Tipo capito Ma roba del genere La drago Adesso riparto Eh ma mi roda Mi roda Mi roda Sì sì Hanno risolto Danilo Hanno risolto Ah quella clip lì Sì ho capito Quale dici Quella là Con lo scudo Che c'era Quello con lo scudo E quello sopra Ma che c'è un team da te Eh lo so Cioè senti i passi Però No vabbè No vabbè Ma come cazzo Ma come cazzo Ma come cazzo Ma col bombi Mi ha fatto Tanto che c'è ancora uno qua Eh E sta puntato E sta puntato Terrato Ho fermato E prendi il biscotto Zio Prendi il biscotto Questo è quello Che ti ha fatto Con il bomba C'è sta gente Alla nave No chi mi ha sparato Non si sentono i passi Dai Che bello Mi piace Verdas Questo è Verdas L'hanno rimesso Verdas Ma come sto smirando Capodanno a Napoli Ah ho capito quale Chi sa però Dove è finita Eh Si aumenta Non è facile Aumentarlo Fra Si aumenta Che Tu calcola Che Se fai Due Due uccisioni E due morti Cioè che Ne fai due kill E mori due volte E KD Risulta uno Quindi tu Come minimo Dovresti fare Quattro uccisioni Due morti Per farlo risultare A 1,50 Credo E poi Se ne invece Fai sei kill Due morti Due di KD Eh ma non proprio Perché comunque Per farlo aumentare Guarda che questo rozzo Che mi ha buttato No se lo vuoi No se lo vuoi fare Se tu sei a 2 Vuoi portarlo Più su del 2 Devi fare 5-2 Dai del 5-2 In su Eh Hai capito Esatto Esatto Se tu poi Sei già KD Tipo 2 Per farlo aumentare Devi fare almeno 5-6 kill In su E morire Massimo Due volte Se stai KD 1 Basta che fai 4 uccisioni Due morti E ti sale E ti sale Però ce ne vogliono Cioè dipende A quante morti Stai sotto Devi calcolare Tutte le tue kill Se hai 10.000 kill E 9.000 morti Eh eh Capirai Devi fare la media Se hai KD 1 Vuol dire che c'hai Tipo 10.000 kill 10.000 morti Capito Esatto Hai piastro No No Valle a recuperare Fra 10.000 morti Che c'hai Cioè Per recuperare E portare Quello lì KD 2 Devi fare 10.000 kill Senza morire Auguri L'XM è fortissima L'ho usato prima In torneo Molto molto forte Dovano caricarlo Però Oh questo Con Sto cacchio Di camera Qua fuori Ma che vuole far Dai Non ce l'ho io Crede Dai Ma guarda No no C'è sta l'altro Sulla finestra Dai Bred Bredda La finestra Che è quarta Ma Ma Prezzo Cambia L'ultimo Credibile Lo sta pure Ressando Vergogna No no Non c'entrano niente Le vittorie Puoi avere anche 10.000 di vittorie Quello è un'altra cosa Non c'entra niente Il KD Funziona solamente Con le uccisioni Quindi Io che c'ho KD210 Vuol dire che Ho il doppio Delle uccisioni Rispetto a quante volte Sono morto Alcora che io C'ho 25.000 uccisioni Perché vuol dire Che c'ho 10.000 morti E 25.000 uccisioni E' quello Su quel muretto Del cazzo Guarda Ancora lì E' Ma ci dovrebbe essere La roba mia Ma ora Lo devo pure Ressare questo Torneo Abbiamo vinto Eh tu che 0-2 Significa che Sei pari Cioè Quasi pari Che c'hai 5.000 uccisioni Hai 4.900 morti Tipo Ho sparato il numero Perdito Diciamo che Fai una kill E muori Fai una kill E muori Fai una kill E muori Ne ammazzi uno E poi muori E' quella La media 10.000 Vabbè Questi erano Già a terra Vabbè Chi l'ha messo A terra Questi Io ho 15.000 Uccisioni Eh allora Avrai quasi 15.000 Morti pure Ma se uno Dico qua Dito Ancora Questo Con sto Coso Assurdo Per una Mila Se ne è uscito Questo Da qua E' uscito E' uscito E' uscito Dicevo No, no Se tu fai uno e uno Al mio paese Uno per uno fa uno Va a zero Quando tu c'hai KD tipo 0,80 Vuol dire che c'hai più morti Che uccisioni No, mi dissocio Mi dissocio Quando tu c'hai KD Tipo 0,80 Vuol dire che per esempio c'hai Due morti e una kill Tre morti e una kill, capito? Ma chi? Ma come fa ad avere 17 bombe? Questo citta Oh no, è molto bene Comunque siamo in finale Michele per il torneo Siamo in finale Livius bot A me mi ha sparato uno Che poi gli hai sparato tu L'hai killato Si è affacciato uno dal tetto di prison Ma ha finito Sì, ma bro Dicevo che pensavo di avere le steam Lì mi salvavo con la steam Mannaggia Mannaggia discord Mannaggia zio Stavo per restare Stavo lì per restarti Comunque Peccato che sul ritorno Non fa vedere anche le morti che hai Qua mi dice solo che ho 25.000 uccisioni Però mi pare che se vai sul BR normale Ti diceva anche le morti Tipo Io sul BR normale 2.91 No, io sul BR normale Ho 52.000 uccisioni E ho 23.000 morti E il rapporto di queste due Fa 2.28 Quindi Questo è il risultato E pensa Tu pensi Wow, quando ne hai? 52.000 uccisioni E 23.000 morti Fa 2.28 Ho 3.98 Io ho 0.99 Non si muove più Eh, tu per farlo muoverlo Per farlo muovere Ah Per far muovere quel KD Vuol dire che devi fare di più Perché poi quando inizia ad arrivare A un tot di uccisioni e morti Per farlo muovere Devi fare molto di più Io mi ricordo che Quando stavo a 1.60 dei KD Per portarlo A A 2.28 Facevo 20.000 a partita Fra 20.000 a partita Per farlo muovere Perché poi farlo salire Diventa complicato dopo un po' Quando arrivi a un tot di uccisioni Te ne servono molto di più Cioè, capito? Ti immagina che Quando appena parti Che stai a 0 kill Se tu ne fai 10 E non muori C'hai 10 di KD Se tu fai un nuovo account Fai 10 uccisioni E non muori una volta Fai 10 KD Ma come Inizia ad avere Tipo 10.000 uccisioni 5.000 uccisioni Diventa complicatissimo Perché tu devi fare Il doppio E il triplo Cioè io Mo' che ho 52.000 uccisioni Dovrei fare il triplo Per farlo anche solo Di mezzo Mezzo punto Uno si rovina l'account Quando inizia a giocare su code Ah, in realtà Bisognerebbe farsi L'account nuovo Dopo un po' Capito? Quando tu magari Inizi a giocare con un account Sapendo che farei schifo Però impari a giocare Magari Poi quando vuoi Vai sull'account serio Inizi a giocare serio Così ti trovi già il KD alto Perché capi? Se mo' iniziassi a giocare Adesso Sicuramente non avrei KD2 Avrei di più Eh Avrei Basta T'ho detto Basta che fai una partita Una partita con 10 uccisioni Fai una morte Con l'account nuovo 10 di KD O no No Con una morte 9 di KD penso Pronto? Pronto? Sì buongiorno Telecom Telecom Italia Informazione gratuita Sì è anche un po' Relativo Perché comunque Non puoi fare tutte le partite Allo stesso modo Cioè se Se tu per esempio Giochi come Un KD5 Ma non c'era il KD5 Per esempio Perché tu dovresti Non dovresti sbagliare Una partita E tu Che stai dicendo? Che non voglio Perdermi la finale Domani Eh Ti ho detto Come devi fare Tu vai Poi Ma che cazzo Te ne fredda Bro Tanto le hai detto Se sono tu Basto io che gioco domani Tu fai presenza Te diri Quelle 5 6 kill Magari Da mezzo storto Te contieni Frate Te fai meno storto Poi quando Finisce la partita Stacchi Vai là E ti finisci di stortire Oh Su cazzo di bomba Non me l'ha chiamato No Mi dissocio da Vincenzo Ho tornato mezzo Cristiano Sto girando mezza mano Basta Vaffanculo Che butto un Wavi Come ne vado A posto Ah ma anch'io Io Prima di iniziare a streamare Avevo iniziato a giocare Con dei miei amici Così Ma per farci due risate Facciamo le cazzate Su Warzone Eh io quando iniziato a streamare Avevo il KD A 1.50 1.60 Ho dovuto fare un macello Per ripigliarlo Ti ho detto Non potevo sbagliare una partita Dovevo fare tutte le partite Con 20 kill Ci ho messo mesi Per portarla a 2.28 Ci ho messo veramente mesi Tu spieghiere a restare Per favore Un numerino Porto due Per mordere il bombardo Beh non morire col bombardo No C'è un altro stronzo Camberato sopra Ce voglio Crede Può stare sane Bella Marco Guarda quello Si erano infilati tutti e due Negli angolini Oh è arrivata gente Dai Eh c'era gente sopra Però basta camperare però Guarda questo Ah come se la camperano Come se la camperano Diciamo buonasera Marco E fia Povero Livius Povero Livius Ha perduto No mi sta pushando Grande putt Mi ha fatto il culo Ha preso pure le mie armi Ma faccio la faccia di squaglio però Ha perso pure con le mie armi in mano Oh che è successo Ah 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 boss Devastante questo Eh è scappato nei bagni Eh ma bazzafocca di quella Eh Si è entrato l'altro Gucci No dai no 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 da Mincha no però dai Mincha due Oh oh no Oh no ma attaccato Gioco con la balestra ragazzi Con la balestra buonasera ma saranno attaccato la balestra addosso aiuto dovevo dire sta tre ore fa no no non sei morto non sei morto e però dobbiamo mettere la mano e aspetta devo caricare no arrivano arrivano sì sì lo so c'è uno fuori craccato pure bagno pure bagno vedi forse c'è uno sotto già una quale scala era quale scala con l'ho fraccato che scappi via bravo guardando non c'è più scappando secondo piano secondo piano si mi ha suonato però adesso un armi e sulle scale sulle scale ancora cosa balestra del tuo ha detto mamma della balestra no godo no 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 Hurry it's free the floor arms Una sera col grappolo, bro. No, l'altro dietro. L'altro? Eh, c'è l'altro, sì, sì, c'è l'altro, c'è l'altro. C'è l'altro che guarda. Eh, non lo riesco a tirar via. Aspetta, vieni dietro. Ma prova a farla finta. Per caso muori prima tu lì. Oh, non ho il tempo di reazione, non ho tempo di reazione. Cazzo, quello era pure a terra per il boom. Sotto al tunnel, fra. Oh, sapeva già che arrivavo, fra. No, 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 fermo, 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 non ho manco più le piastre. Staccato uno. Oh, 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 ma come fa a sapere già che so di qua? Uolacchino? Sto male. Non farmi ridere. Anzi, tu scherzi. Quello mi ha sparato già diretto lì e dove ero io. Guarda, uso io sta balestra di me. Dammela qua. Vedi che stanno arrivando, sento i passi. Sali, sali. Sali, lupo. Mi fa trucco di quel porco, guarda sta gente che... Sì, no. Dov'è? Oh, gì, quanti sono? Ce ne ho due da me, eh. Oh, porco di quel porco di figlia. Aspetta, pure il coltellino è sbagliato. Yugi, Yugi, buon luck. Se sembra un fenomeno, peccato per la baguette. Ma come peccato per la baguette? Quella baguette la devo avere io. È pure lunga, non ti preoccupare. Ah, gg, thank you very much, bro. Questo video, bro. Sopprima me. Sono usando... Sono usando l'XM4. Vedi se... Guarda, se non so scavalcare, guarda. È impazzito. Qua, 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 bro. No. Niente, all'Aki, fra. Dalla torre, mi ha anche dato dalla torre. Fra, era camberato sulla torre. Il 2. Io ho fatto una giocata con l'MP, Luco. Mamma mia. Peccato. Dicevo, sto usando l'XM4 e l'Owen. GG. Ah, peccato. Sono ad apprendermi il lancio. C'è, stava due sulla torre, ce ne stavano. Perché non la demoliscono, quella torre? Rovina, rovina le prestazioni. Vicino casa mia... E fino a lì si è andato. Che significa fino a lì? Se vicino a casa mia, fino a lì si è andato. No, sono andato lì. Ah, forse mi ha risposto a una storia. Minchia, vicino a casa mia, fino a lì si è andato. No, ma l'hanno spedito a casa, zio. Ma in che senso? Sì, da vicino... Ma se vogliamo renderla ancora... Ma non ho capito. Non toccava. No, ma hanno risposto alla storia, Fra, ma... Ma non ho capito. Dai, occhiali li ho ricevuti a casa. Amico sono andato a prenderli di persona. Boh. No, colpito a 45 vanno bene, vise. Vise. Scusami. Vise. Vanno bene, vise. Devo capire se... Ma in che senso? Uè, vise... No, allora, la citazione era... All'una stacco. Eh, è l'una. Sto facendo ancora un altro game. Invece si va con l'XM, signori. Ha. 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 Domani è un altro giorno. Ma domani è già venerdì, guaiù. Ma sta settimana è volata a me. A me è volata. Giuro. Boh. Io non so, boh, raga. A me sta settimana è volata. Oh, io mi ricordo che mo' ero andato sabato scorso a ballare. Boh. Siamo già venerdì. Sì, ma è il mio ultimo venerdì in Olanda, brodi. Cioè, non... Ah, babbo, l'ultimo. Perché che fai? Vieni qua, poi? Eh, poi torno in Italia, sì. È il mio ultimo venerdì. Cioè, per le vacanze. Madonna. Ma allora va a cagare che sei ancora in Olanda. No. Tiro, allora ho già lì. Però miro del culo, perché alla fine era il nostro torneo. Cioè, lasciare proprio in finale miro del culo, però. Mi sa che qualsiasi decisione che prendo me ne penta a prescindere. Eh, penso. È una di quelle situazioni in cui qualsiasi cosa io scelgo me ne penta. Eh, purtroppo sì. Per niente, bro, domani prendo le ferie. Eh, per niente. Eh, no, a me è passato subito. Guarda, 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 guarda. Guarda come sono morto, guarda. Da un collega, tra l'altro. No, 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 no. Sono morto, sono morto. Due a zero. No, mi sa, quest'anno no, Danilo. Non ci credo. Guarda te. Che culo di... Ma neanche l'anno scorso. Purtroppo ho un po' di cose da fare. Non è buon'acqua. Se Dio vuole, magari l'anno prossimo. Cazzo, Piro. Piro. Quindi gioca Piro? Eh, adesso vediamo. Vediamo. E vada a vendicare accontro. Che cosa? Lo stanno a bò? Eh, eh, eh. Non so, un po' nemico. Mmm. No. No. Minchia, il tempo che ho fatto l'amico, ma l'ha serato quell'altro. Ce n'era un altro. No, ma che c'entra. Calcola che qua... Calcola che qua a Napoli... Ad agosto non c'è più nessuno. Si svuota, sono tutti fuori. Anche se c'è il mare, però... Non è una zona. Se è un fenomeno, peccato. Ma non è vero, non tifo... Io tifo Napoli. Ma chi l'ha detta sta cosa? Eh, sono troppi sotto. Alla fine era uno quello sotto. Ah, perché l'altro... Ma tre stanno qua. Guarda, se è un po' di... One shot, dai! Non so se... Serpentino, non va. Non va a terra, serpentino. Non so se mi piace sto mio P, raga. No. Non sono convinto. Lo sapevo che mi aspettava. Lo sapevo. Verso il fight. Eh, mi ha fatto con l'arma guerra. No, ma non c'entra, raga. Una cosa è viverci. Eh, un conto puoi andare in vacanza. Questa era salito. Dove è andato? Bella, come stai, caro? Noi dai, mi devono sparare mentre buscio uno. Guarda come l'ha salvato, va. Certo. Ahia. Era da... Dov'è? C'è domenico? Era da offero domenico. Eh, da no. Puoi dire al lupo che è un pdf, mi dicono. Certo. Dove. Tutti i pdf. Che poi c'ha doppio significato. Anzi, tre silica. No, tre, tre. Uno è il file, uno è il pezzo di fango e l'altro è il pezzo di figo. Ah, questo è questo. Guarda quelli come si sono posizionati, va. Analisi perfetta. Eh, guarda. Ma ti pare che si sono posizionati con la baricata dentro prison? Guarda, io bestemmio. Lui, guarda, io bestemmio. Pazzisco. Eh, che devi fare? Sono morto io là perché c'è stavano due dentro prison. Con la baricata. Ne ho killato uno. A OG, no. A OG di Modern Warfare, no. Ha il movement bloccato. Giuseppe. Che c'è il movement bloccato? Eh, la OG di Modern Warfare. Non si può usare. Bisogna trovare un'eventragietta che è il movement corretto. Ma ce ne sono o no? Per quanto possa essere forte. Owen, arma stegetè. L'H4 ancora in realtà è buono. Vai con la cere. Vai, una tenant. Una tenant. Finalmente. Ho fatto fuori quello del team che usava le baricate dentro prison. Sempre una... Certo, prossimamente vado con Rocco, dai. La fa l'accademia da Rocco. Nemico. Non mi fa tirare il bomba. Oh, a chi è killato? L'ho soprafferta. Boh, bombardamento non ha fatto nulla. Dio, povero. No, vabbè. No, raga. Vieni, vieni. Dopo vieni. L'uomo perché adesso non lo fa. Che è successo? Eh, una mina. Ah, ok. Ah, sì. Vedi che ci sto pure io dentro il film, do me. No. Eh, non mi ricordo. Cosa? La uscì, quale? Oh, ma c'era uno qua dentro. Stanno agganciate dentro living. Oh, oh, no. Ce lo voglio credere, sei incastrato. Guarda là, c'è incastrato vicino alla porta. C'è incastrato vicino alla porta a me. Passi quattro contro due. Eccolo là, a terra uno. E via. E l'altro va fatto da stronghold. Ecco qua. Stava sul tetto di stronghold. Stava. Ti ho visto, ti ho visto. Ho traccato. Ho traccato anche l'altro. L'ha messo a terra, eh. Devo comprare, devo comprare il bomb. Si è buttato, si è buttato. Non si deve essere stacco. Vabbè, tanto devo venire da voi, in realtà, eh. Ah, ma è restato. No, però. E qui sotto è uscito. No, vabbè, com'è morto. Quattro contro uno, possibile. Ma dov'è l'altro? Cioè, il disturbatore non... Ah, ancora lì, eh. Sali. Allora, per sbaglio ho sparato un colpettino ed è caduto. Poi ho proprio un colpo senza neanche mirare. Pam. Vedi come gioco meglio, adesso. Io a mezzanotte comincio a finire il riscaldamento, bro. Eh, vabbè. Allora tu devi iniziare a giocare dalle 6 di pomeriggio. Eh, bro, io ho questo problema. Non riesco a entrare in temperatura. Cioè, ho questo problema. Non entro in temperatura. Mettiti nel forno. Eh, minchia. Se funzionasse lo farei. Non riesco a entrare in temperatura. Comunque ho fatto un... Beh, la Francesco. Buonasera. Alla fine. Non lo so per questa no. Io penso che faccio l'ultima, però no, veramente non li vedo più. Sono quattro ore di live, eh. Faccio l'ultima, proprio. Sono direttante. Ieri ne ho fatte sette e mezzo. Cosa? Di live. Di ore di live. Ah, ma... No, non riesco più. Almeno non su... Tra Rebirth è così frenetico, non riesco più. Ma no, te, Gioele. Io faccio l'ultima e vado. Su Verdask ne facevo anche dodici, eh. Su Verdask facevo anche dodici ore, io. Allora. No, ma quattro ore sono poche, in realtà. Cioè, almeno per quelle che facevo prima. Prima veramente... Il minimo, proprio il minimo prima erano sei ore, quando c'era Verdask. Poi arrivavamo a otto, dodici. Frank, è vero che prima avevo meno cose da fare. Almeno quando c'era il lockdown. Ma... Non so più che pensare, Ricca. Cioè, potrebbero... Però... Potrebbero metterlo, ma... Gli va contro come cosa. Perché se mettono Verdask, poi, quando esce il Warzone nuovo, non ci va nessuno. Quindi o poi lo devono comunque togliere. Perché se lasciano Verdask, non nessuno va a giocare il nuovo, capito? Quindi, a livello di marketing loro, non funzionerebbe la cosa. E andrebbe contro. Non lo so. Dovrebbero metterlo e poi toglierlo. Non lo so. Io spero che lo metterlo, ma... La vedo difficile. Non lo so. La vedo difficile. Diciamo che, visto che stanno facendo parecchio casino, gli streamer americani, che sono quelli che per loro contano di più, stanno facendo un bel casino, stanno creando, perché vogliono assolutamente che la mettono. Potrebbero metterla. Io spero che la metto. Pronto. Ed avanza, rumo, per noi 6 a 4 è un attimo. Assolutamente. Avanza le da sub, mamma mia. Pronto? Copiato, copiato. Pronto. Lupo, lupo bianco da me. Yes. Controlo. No, no, no. Sì, sì, sì. Controli, controli. Vamonos, a controllo, vamonos. Il Warzone nuovo esce verso dicembre e gennaio, regà. Dovrebbe uscire. Non è ancora confermato, però, ma quelle date là, penso. Eh, dipende. Dipende. Cioè, è difficile. Io non faccio solo quello, perciò... Non te potrei di, per conto mio, perché io faccio anche altro. Faccio anche il produttore DJ, quindi... Non, capito, quindi a me è un discorso da parte. Per darti futuro, devi essere uno dei grossi, tipo... Tipo un Power, un Moon, un Savi, un Jesus, secondo me. Anche perché in Italia non è come in America. Cioè, in America è un po' po' diverso. E hanno proprio una concezione diversa. E sono molto più seguiti. In Italia siamo troppo po' pochi. In America ti posso di... Sì, se fai lo streamer hai il futuro assicurato. In America. Qua... Non lo so. Qua è il futuro assicurato se fai ollie F. Oh, meno male, meno male. Non ho recuperato il fight. Mamma mia, fra. Eccomi, eccomi, eccomi. Era un attimo un mutato che parla a venciare. No, ho attaccato la granata. No. No, dipende chi, fra. Dipende chi? No, non sono cazzate quando dicono di guadagnare... Tot. Dipende chi, però. ... Ma sta cosa chi te l'ha dita? io non lo posso dire fra non ne posso parlare di sta roba qua perché abbiamo firmato dei contratti di non divulgazione non ne posso parlare su avvi vai dios no one shot è andato di là a destra è conoscenza e te l'ha detto in privato vabbè problemi suoi io non ne posso parlare e che come ricamberato due pezzi l'altro si affaccia da sopra da sotto da sopra mai sul tetto ma questi non sono normali ma sono tre eh dammi al living si si sono tre sono tre uno sul tetto a terra quello sul tetto e mancano quelli due dentro casa ma penso che uno va sopra a restare si potrebbe provare mo non Ah, come me fai via. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Oh, my shit. son bloccato io eh non ce pareva si può caer nel techo con uno solo vuoi porre la caja e lo mato ma che non era su che bot questi raga io tengo un problema a chi ui no ma è una greddinata non mettono Verdans per le tre mi hanno detto che in realtà era una roba che avevano organizzato i vari streamer soprattutto americani per far vedere ad Activision che solo mettendo col nome di Verdans si facevano parecchie persone che tutti erano interessati a Verdans quindi non la mettono le tre di volte non mettono niente hai visto Giuseppe? che belli italiani no no edu porter 30 metri uno sulla torre due sulla torre e tranquilli che al momento non la metto ma poi per mettere Verdansk devono fare un aggiornamento bello grosso quindi lo quella pesa pesa parecchio la torre di acqua torre di acqua tre tre torre di acqua quante? tre uno sopra due sotto me sa oh guarda questo che mi ha detto cheat? una torre di acqua una torre di acqua uno sotto uno sotto uno sotto uno sotto sì capisco molto però parlo ah vabbè ok non non parlo non parlo molto capito ehi com'è possibile chi il bus step se viene in italiano lo intendo arriva 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 un dos dos a baco demi uno nel teccio al tetto ok bravo livius uno al tetto livius ok al tetto al tetto di prison grazie città città anche a me prima l'ha detto e sto subendo eh con vosotros vale città una qui torre dove sta è l'ho uh ah lì è piaciuto ero l'ho qua no vieni qui vieni oh vieni sopra il tetto vieni sul tetto teniamo sulla posizione cambiali lì lì si no si hanno tirato un attacchio si si bravo bravissimo è buono il tuo spagnolo molto grazie che bot guarda che sia un coglione mors no 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 insulta pesantemente ogni volta che muore ehi non danno io devo far forza insultare fra come fa che mi fa daai ok cioè più forte di me fra non sanno sparare ma sanno solo insultare non uscire poi no no one shot bravo bravo un'altra va bene va bene dai dai facciamo un'altra dovevamo fare l'ultima passiamo Non uscire No no facciamo un'altra Allora sto usando No sto usando il Non il bullfrog Sto usando l'Owen Con l'XM4 Va cagare Grazie Luca Grazie Guarda dopo Dopo veramente C'ho una puntina dietro Penso a te E ci vado E scendo meglio nel bagno Allora Aspetta che uno di quelli Che ti insultava È venuto qua in chat Mi ha insultare Vuol dire C'è sempre tu Luca Ma sei rovinato Ma sei rovinato Ma sei rovinato Che viene a insultare In live per un gioco Sì per un gioco E ci stiamo facendo due spari E cioè Chi tu ammazzi bene Ammazzi te È un gioco frate Ma come sei rovinato Zio C'è Ma vai da uno psicologo Ma è da uno psicologo E vai a dire proprio Dotto C'ho un problema Vengo killato Giocando a un videogioco E vado a insultare Chi mi killa Nella live E quello di rispondere Sei un coglione Porco due È incredibile Ma è incredibile Comunque stavo dicendo Sto usando l'XM4 E l'Owen Lui Non lo metto Vio Viola No Beh là Dipende Da tante cose Non c'è Un più di qua Un più di là Dipende Da tante cose Dipende Da Non lo posso dire Però dipende Anche da contratti E compagnia bella Assurdo Comunque Eh pure io Pure è arrivato il sonno Anche per me Ne preoccupare Che è arrivato pure per me Tra poco Tra poco L'Owen Lo Lo vedo Come se fosse Tipo Un OTS Una Wellgun Ma la mitraglietta Che è laser Secondo me Raga Varie L'Owen Che uso io Il blixer Ancora non è male L'arma guerra Laser Ha un botto Devastante Però dipende Se ti trovi A gestirla C'è C'è Diversa Da L'Owen La blixer La blixer Secondo me È la più facile A gestire L'arma guerra È un po' particolare Anche la più forte Anche la più forte No ma l'hanno nerfata Mo eh Eh lo so Lo so Ma come rimane Comunque la migliore Eh ma io ho visto Che fa più danno L'arma guerra Però da vicino È un po' particolare Da usare Non c'ha la stessa mobilità Qui è un po' Bosch Cassa cazza La situazione Pachi Perché qua Non puoi fare Tante cose Che la puoi fare Però Là È più difficile È più difficile Di fare altre cose Cioè dipende anche dal lusso Che lo devi fare Tipo Se devo fare solo live Ovviamente Preferirei solo L'altra piattaforma Essendo che io Non faccio solo live Ma ho bisogno Anche di postare Altri tipi di contenuti Su Facebook Puoi farlo Invece L'altra piattaforma O fai live O fai live O fai live Cioè non puoi mettere Un posto Un video Una foto Non puoi fare nulla Fai la live E basta Dipende Sennò fai come Livius Che fai entrambe le robe Eh sennò dovresti fare Entrambe le robe Ma anche io lo facevo E facciamo entrambi Però poi ho firmato La partner qua Quindi Non lo faccio più A me l'hanno offerta La partner Ma non mi cambiava niente A livello di spread Cazzo No è normale Quello non ti cambia nulla Cioè Più tryhard Cazzo Ma la gente mi segue Non lo so Cazzo devo fare Ma si ma Alla fine In realtà La partner Ti cambia ben poco A meno che Non organizzano Qualche evento Però Alla fine A me un evento Mi hanno fatto fare E basta Come partner Con il difeso Ma pure Twitch Twitch alla fine Se prendi la partner Per partecipare Ai Twitch rival O quando fanno O quando fanno qualche Eventino Che vai tutto al vivo Tipo hanno fatto Il Twitch coin Ad Amsterdam E penso che Andavano Che invitavano Chi era partner Queste cose qua Però ho capito Alla fine Se fanno qualche Eventino Ok Ma comunque Deve essere un partner Che loro poi Decidono di scegliere Non è che Perché si parte Nei partecipi Al 100% Beh poi Se vuoi essere partner Non ti invitano Lo stesso Cioè Non ci direi Porca traia Soro No Oh Mi ha bruciato uno Mi ha messo One shot Hai visto che Mi ha dato mezzo a botta Sono due Al detto Ok Ok Allora Buonasera lupo Lo chiedete Perché la mia H4 Spara tre colpi Perché devi cambiargli La canna Gli devi mettere La canna giusta A me la Marco V Me la fa sparare In semi automatico Perché Pure lì La stessa cosa Cazzo Non c'è il carrello Qua Non ci credo No Non me ne sono reso conto E Dovete mettergli La canna giusta Se no Vi spara tre colpi No Quest'anno Mi sa che non vado In vacanza Non so se Tutto agosto Ci sarò Però Non penso Che vado Comunque fuori In vacanza Vai L'ho fatto Però ho dovuto Fare qua E non c'era Il carrello Prisone Uè Buonasera Ah grande Grande Burlone Sì Sì Ho giocato Qualche volta Su CTA Vabbè Anche overjack Conosco E' che Amico Comunque di amici Di nulla Quanti Quanti Fatti Un UAV Qualcosa La taglia Dov'è Ah Verso la nave Sto pensando Di pushare E basta Adesso vado Lì Mi killano Pesante Vuoi dire Vado là E mi killano Scalto la taglia Eccolo Guarda dov'è Guarda dov'è Gli arasi Oh Baccato Stanno chiudendo gli occhi No Oddio Mi c'ho tirato Mi ha tirato Questo dove C'è Guarda che cosa Da succede C'è chienata Le spalle Mi butto giù E c'era lui Camperato di qua Che fai lui? Eh sì Su GTA Non so se Anche over C'era su GTA A Brulone c'era Di nulla Già una tappa 1 a 1 Va là al centro Allora C'era un po' Ficcio un po' Su Warzone Italia Mi ha fatto Molto piacere Che hai letto Il mio commento Guarda va Un prevedivo Di un pc Ah mi ricordo Mi ricordo Ti giuro che vorrei tantissimo raga Vorrei tantissimo entrare dal tipo che C'è stato Ho seguito il tuo consiglio Alla fine l'ho chissato L'ora ti incontro sempre i game E ci sono una volta Su Forte più bella Che non sta ancora Di nulla Di nulla Quando posso Ma che consiglio Lo do volentieri Quanti fps fai Guarda quello sul tetto Guarda c'è uno sul tetto De control Ma ha bruciato uno Oddio oddio Come l'ho messo a terra L'ultimo No No Ci sta pure Interessando Guarda che culo Eh cosa spari Che ti sei preso La scoppiata lì Guarda chi mi ha fatto Guarda Prima Prima che andasse a terra Ma ha dovuto che là Ci voglio credere Niente A volte c'è una sfortuna C'è uno sul lancio Qui oh 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 Questa è una partita Che ti dice Barri De 180 De 2 Ottimo Ottimo Anch'io faccio 180 Quindi 180 170 Poi a volte va a 190 E va bene Va bene Più è ottimo Quanto ne vuoi fare Va già benissimo Ah oh Riesco a prendere il lancio Ma a quest'ora diventa l'impossibile Lobby Sì Non capisco come fanno a giocare sempre con lo stesso ritmo le persone che becchiamo Ora Eeeh Quattro ore e mezza bro Basta Non ce la faccio stare più nevito Dai raga porca troia ma non senti passi Ma perché non senti passi porca troia Ma è perché non è colpa tu È colpa del gioco Ma poi sai allora Eh anch'io vorrei farlo Ma sicuramente Bravo luco Te lo confermo io Eh ma vedi che non è da solo C'è l'amico Oh 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 Altri due Altri due eh Otro smassi No ti ho detto di andare Non fai niente Vole a trovare It's coming It's coming bro It's coming No via 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 Fuggi 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 C'è pure sticcato Siamo rifare il lodi eh We can do lo down Guarda lì ma ha preso Assurdo quanti danni ho sta partita 1.5 Vabbè Lavati le orecchie Ma come no No però veramente su sto gioco A volte mi passa e non si sento Proprio hanno fatto un casino Quei aggiornamenti Obiettivo contratto acquisito Questa è una bella lobby Tryhard non bene questa Do out, do out Stop Dai fa rifare un lancio Sì sì Fanno quattro sova prison bro Vieni vieni Secondo me ci push Ne prendiamo il biscottone Eh Eh Però te l'ho detto Sì Sono quattro superi Sono montati Assurdo Rupo guarda su Eh Si stanno per lanciare Mi sa Tra un po' Arrivano A rompe le palle No stanno ancora guardando L'ha hittato Ho 29 colpi Balestra pure C'ha Assurdo No 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 Dalla torre Non c'entra nulla Mi servono le piastre Però Compro Compro Se riesco Sì 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 No le ho prese Però sono sempre quelli su prison eh Non ce la facciamo A fare Può uscire quelli di prison eh Dovemo andare a sinistra 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 Vieni 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 Fammi vedere se escono Spero Ma non ci stanno più Sono messi peggio di noi Se escono Ok 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 Vengo vengo Oh no Sono nuova Sono nuova Non c'è Credo Craccato Sono tre almeno eh Si è lanciato Ha rubato Flavish Parto 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 Si dovrebbe essere qualcun altro Oh guarda quello Eccolo là Si è buttato Si è buttato uno Dalla torre Quello che era Prison Oh Che cacchio è Mi serve una mano Uno su nuova Mi piastro Mi piastro Ce l'hai proprio sopra di te Guarda Ce l'hai sopra di te Me ne devo andare da qua Dura bomba Credo Non me ne va uno a terra Dove dove Luca? Dove dove? No e non c'è più Non c'è più Sarà sopra di noi Comunque Uno è sopra di noi Quello che sparavo io Non c'è più qua Avanziamo Pensiamo in un'altra casa Eh avanziamo Cosa c'è quella Cosa c'è quella Lascia stai Lascia stai Entriamo in un'altra casa Abbiamo gente nella casa Sicuro eh Di fronte Ho i colpi di cieco I colpi di cieco I colpi di cieco No no sono sul tetto Zì Teoria libera Qualcuno deve uscire da là sotto Vai vai Ho fatto uno di là Poi non esce nessuno Uh Dentro la casa grande C'è uno in finestra Un'altra Un'altra arriba Un'altra arriba L'ultimo Ha saltato La casa grande Vai Il'altra deve essere L'ultimo L'ultimo Secondo me è al piano di sopra Sì, sì, sì È ancora lì, vero? Sì, sì Sotto, sopra, ho fatto il giro a destra, non si sa Non esce C'ha la maschera Stai usando la Vlix? No, lo ho Select È sotto, è sotto, sì, è sotto, è sotto Vai Bravissimo, ragazzi GG, la ultima, un'altra ultima No, un'altra ultima Sì, vado a dormire Viaggio il domani Un'altra, ma qua Dai, un'altra Naccia gli spagnoli, mannaggia Ultima, ultima però, eh Sono a diluttima da 45 minuti, signori Questi non mi fanno staccare Fabio, grazie al follow, benvenuto Oh, l'ubacchiotta Francesca Tutto bene, carissima Grazie mille Come va a te? Ma buonasera Regà, abbiamo beccato sti spagnoli Non ci fanno andare a dormire Ha detto un'altra Un'altra Stanno vincendo Si stanno divertendo Ho tramass, ho tramass Vai Dopo che ho un obiettivo Che è pulled in code Non c'ho altro obiettivo In realtà Sarebbe Sarebbe sicuramente Bello Questo skin De chi è? Quale, quale Quella che Teniamo Non so Trocano E la rose Per esempio La rose 2.0 Ah, è il rose No, ma non è una skin de rose Come si chiama fra l'operatore Questo qua? Mi ricordo l'operatore Regà, come si chiama l'operatore del rose 2.0? Florence Ah, Florence Ma io lo dico Dicevo Beh, sicuramente in code Mi piacerebbe comunque Arrivare anche a giocare torne importanti Dal vivo Eh, per carità di Dio Però Organizza, lupo Minchia Se tu Tu sei Ma no Io parlo tipo Come sono andato a giocare il torneo Da Amsterdam Che poi l'ha vinto Jesus Lupo Non ti hai mai canato a giocare con Savi? Sì Con Jesus ci ho giocato proprio dal vivo a Milano Con Savi pure ci ho giocato Sia contro che Insieme Insieme Da casa Contro dal vivo Eeeh Io lo voglio Grande come sempre Buonanotte Andrea Sai che forse l'automatio non è in meta? Io ogni tanto lo sto usando Com'era Florence? Ma glielo dico Stavo provo a invitarlo Vediamo se Ma chi? Sì Boh mi ha invitato quello che ci aveva insultato prima No Lascialo stare Vabbiamo ancora gli spagnoli con noi E gli devo dire Amigos? Amigos? Está con nosotros? Sientan? Sì Stavo dicendo che No Esta skin che tenemos con nosotros Es dell'operatore Florence Ah ok ok Sì Nosotros in Italia La chiamiamo Rose Perché No 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 Questa è Florence Eh sì sì No 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 Sì sì Esa skin è di Florence Però Se parece Muy simile Sì Se compra Questa 20 euros 20 euros Sì 20 euro Come si dice 20 euro? Sì 20 E se encuentra nel negozio di Call of Duty Non si compra in CP Tienes che ir nel negozio Vale 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 In la tienda Esatto In la tienda In la tienda In la tienda di Call of Duty Pero Non dove Encuentras Il altro Il otro Come si dice Entiendo Entiendo Tienes che ir a la tienda Call of Duty Como tal Sì Donde sta Escrito Call of Duty League Ok Ok Perché non savi In donde Incontrarla Si Stavo buscando Però non savi In donde Incontrarla Sì sì Non è Un paquete Che incontra Nel Nel Primero Se la tienda Tiene il sker A bajo Sì Ok Ok Lezioni di spagnolo Da parte di lupo Let's go Eh Ci ho perso la mano Fra prima parlavo meglio Chi te la marca? Ho perso la mano Ho perso la luce No te lo creo Te lo creo No te lo creo Non te lo creo Non te lo creo Non te lo creo Non te lo creo Io non Non guendo Nengu'arma Non si senti un'arma Non ci credo Sono un cretino Dio santo Sono stati tutti No Mi sape di carpa Mi ha preso una kill Oh Guarda là Guarda Stanno in seguito Tutti Stanno in seguito Guarda 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 Mi ha fatto Quella Le spalle Con la pistola Guarda 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 Vieni Ragazzi Allora Che sto dicendo Verso contro Savi Allora Stavamo giocando Un cerca di distruggili A Milano Dal vivo In live Eravamo Io e Jesus In squadra Con Non mi ricordo chi C'era pure uno Del team di Jesus E Perdemmo Tipo Di pochissimo Perdemmo 6 a 5 6 a 4 E Perché Savi Ci fece una Tripla A fine partita Contro me Non mi ricordo chi Io mi killai Vortex Più volte Anche Blade E poi Alla fine Savi ci ammazza Tutte e tre È stata Un bella Un bella Un bella Sfida Un bella partita Bella Laurent E Poi Poi ci siamo Beccati Contro Abbiamo vinto Poi Quando abbiamo Giocato insieme Abbiamo vinto Un po' Di partite Qua su Warzone Che stiamo Che stiamo a Di Non va a terra No Vaffanbani No 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 C'è un altro No rega Mi serve una mano qua Quanti Quanti sono E Mamma Li sono messi Due a terra Eh l'ho visto Nessuno Confermato Assurdo Uguale io Uguale io Buonasera Giuseppe Vedi è arrivato Laurenz Sono morto Peccato Ma si Ma control Si libera Easy Sembra le mitragliette Eh dipende Dipende quale Giuseppe Eh abbiamo Giocato i tanti Di tornello Oh questo Che è salito Boom Mentre mi buttavo È salito lui Guarda là Il tuffo a fallo Ho fatto giù Ma non lo so Perché non streama più Non lo so Non lo sento da parecchio Non lo sento da parecchio Poi Qui di solito C'era la mattina E Io la La mattina è difficile Che ci sono Mi pare che c'è anche un negozio Sarà impegnato col negozio C'è un negozio Credo Ragazzi C'era comunque un'altra attività Che portava avanti E comunque nel periodo di lockdown Che comunque eravamo forza chiusi Aveva iniziato Poi anche a farlo live Sarà impegnato col negozio Sarà impegnato col negozio Guarda dove cazzo Ma come cazzo No vabbè No 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 Che c'è? Che mi hai fatto morire Ti ricordi? Che c'è? No te creo Che hai detto? Che hai detto? Dimmi 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 Che è successo? C'è un stronghold Mi l'ho cecchilato da prison Eh vabbè Andai io come sono morto Oh ma è giunto il momento di staccare Questo che stai facendo te Ah un torneo wager Due contro due Eh dipende quali Ne sono stati fatti tanti Volevo sapere cosa mi avrebbe detto Il mister platino però Ci sta ci sta Io pure qualche torneo Lo abbiamo vinto Cioè abbiamo vinto un torneo di house of gamer Ho vinto un torneo Non mi ricordo Di un'altra organizzazione Che c'erano pure i francesi dentro Cantè e compagnabella Loro arrivarono secondi Noi arrivamo primi Ah poi i tornei Uff Abbiamo fatti la marea Ce n'erano due Tre a settimana Quello Ahiaiaiaiaia Mo Ci abbiamo Uno Più di socio Più di socio Mo un torneo che abbiamo Appunto domani siamo in finale Sempre un torneo due contro due wager Siamo in finale Vediamo se vinciamo domani Uno Un altro torneo wager Invece mi pare che avevo perso Ai quarti Abbiamo perso ai quarti E contro quelli con cui abbiamo perso Poi hanno vinto il torneo Uno al tetto Andrei Eh basta Ambi stia piastra di due quarter c'è gente Eh si però sono stancho Quante ore sono? Quasi cinque ore Sono lì dentro la casa che stai mirando Eh lo so In realtà preferisco Il mio più un misto Tra Jesus e Savile Dai mi ha preso il bomba dentro la casa E in più Io provo a andare a riprendere le mie armi E poi provo a scappare da te Ancora bombardare No un altro Ma fra non vedi qua che c'è il bombardamento Ci stanno bombardando all'infinito Ecco qua Eh è tornato dentro Ah pambagno Ma non ha messo un colpo raga Neanche a pagare No Eh mi stava divertendo Andando da me Eh lupo mi serve un'arma Sennò come cazzo Ammazzo i nemici O li ammazzo Il mio si è restato nella penna Guarda un altro ne ha tirato Una barzalletta Una barzalletta Che andrete a segno Ecco Voglio credere Che risa Sotto sotto Apago 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 Sotto Credo che sta uno Sì sì Oh ancora sulla torre sto front Addio madonna Oh giuro non la pusho più scusare Vieni qua vieni qua che c'è sta la roba di questo Dai vabbè Nooo Che roba Non ci credo niente Non lo sai un'altra Anche io ci credo Oh mi è salito No dai No 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 Deve tirare Deve tirare E bugia Eh vabbè regà Ciao ciao Buonanotte buonanotte Ciao buonanotte buonanotte Sono andati sono andati No pure io ce la faccio in più E stava tutto il team Ah ma Sono francesi questi Figurati erano divisi 2 a 9 E 2 in the quarter Eh scusa Chi ci ha pushato dentro Un altro team Dentro in the quarter Non hanno fatto L'unico kill che hanno fatto Ah aspetta Ci stanno ancora Quelli nella torre Sono due team bro Questi che sono entrati qua Ma non erano Non erano quelli di là Vedi Vabbè che cazzo mi C'è assurdo Io stavo aspettando Quelli della torre Che è di là No Con la safe Ci è arrivato un altro team Contro Vabbè 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 Dunque detto questo No mi dissocio Mi dissocio Dipende Ci sono alcuni tornei Dove Di solito Svingono soldi Questo è Tornei Svingono soldi Ci stanno I tornei Dello Svingono Due Trecento euro Mille Oddio Su Verdask Se ne vincevano di più Secondo me Io vado Non ce la faccio più Sì sì Per domani Mi fai sapere? No Ma te lo faccio sapere Anche adesso Zio Solo che non so Non so che fare Perché voglio giocare Ma allo stesso momento Non voglio anche Usci Cioè voglio anche Ma mi sa Ok Dai va bene Tanto Piro Mi ha già detto di sì Più o meno Credo Quindi Vabbè Se c'è Piro Penso che Lo caro a Piro Eh no Perché lo devo Devo avvisare Comunque Non è che all'ultima Tutto mi presento Con Piro Devo avvisare Quindi mi devi far sapere Ma bene Mi hanno detto Di sapere Allora Prima possibile Va bene Io mo le scrivo Allora Ti faccio sapere Domattina Domattina Allora Ti faccio Buon ragazzi Io sto ancora live Intanto Vi auguro una buonanotte Bella Giuse Buonanotte a tutti Un bacione Bella Vabbè Bella Buonanotte Ciao Ciao Comunque Dicevo Faccio L'ultima E vado È stato già detto Sì L'ho detto Un'ora fa No ma adesso Veramente sto andando Cristiano Buonasera Sono cotto Francia Faccio più Stavo andando Stavo Un attimo risolvendo Le ultime cose Che domani abbiamo La finale Però Lì Non c'è Vabbè Vediamo un attimo Come fare Ci si sa Ah ok ok Aspettami un secondo Dove era il fatto Dalla statistica Che è successo Dove Mi sono perso il messaggio Ma come statistica Chi è il più forte d'Italia Ma secondo me Non è che ci sta Uno più forte Un altro Ognuno Ha Un Proprio stile Di gioco Una propria Mentalità Su come Cavarsene In alcune situazioni Un proprio movimento Ma se proprio La vuoi mettere In questo modo Fa forse A livello Di tornei vinti Più forte Al momento Su COD Su Savi e Jesus Per me Per a livello Di tornei vinti Perché li stanno Vincendo un po' Tutti loro Quelli che vingono Ovviamente Perché poi Bella Buonanotte Allora Che gli do di Che ci sono Dai fanculo Voglio giocare Ok Va bene Va bene Dai top E allora Ci vediamo domani Bella Buonanotte Allora Stavo dicendo Niente che La maggior parte Dei tornei Che stiamo Vincendo Tra virgolette Come italiani Stanno portando Loro a casa Comunque Quindi Direi che al momento Loro Allora Niente ragazzi Dai vado Buonanotte Pietro Buonanotte Cristian Ci becchiamo domani Penso alle 21 No per forza Alle 21 Perché abbiamo il torneo Abbiamo la finale Quindi Sta finale Wager E vediamo Che succede domani Quindi domani Ci becchiamo Con la finale Alle 21 Buonanotte a tutti Ragazzi Domani Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti